Prima di iniziare volevo fare un piccolo testino, che suona malissimo come termine, ma, tipo, se io mi mettessi qui, non sarei più illuminato. No, manco per il cazzo, perché c'è la porta dietro che fa troppa luce. Però almeno ci sarebbe la luce che mi arriva... No, no, sarei illuminato di merda lo stesso. Fantastico. Se io faccio così, sono illuminato bene. Bene, bene è una parola grossa, però almeno sarei illuminato. Però se io invece mi spostassi dall'altro lato, sarei comunque illuminato malissimo, ovvio, 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 ovvio. Com'è che qui sono illuminato bene? Però mi devo mettere qua a farle live. Potrebbe anche starci, sapete? Potrebbe anche starci. Salve! Benvenuti! Sono qui per parlarvi ancora una volta di cose brutte e tristi. Stavolta, per la prima volta nella storia del mio canale, una risposta in live ad alcuni commenti. Perché? Ma in realtà è una cosa abbastanza improvvisata, non c'è un vero motivo. Non sto pensando a qualcuno nello specifico. Davvero? Non è una battuta o un modo per pararmi il curo. Io ho pensato di fare questa cosa semplicemente perché ultimamente ho ricevuto un sacco di commenti omofobi e razzisti. E forse era il caso di approfittarne, non credete? Ah! Ugo è a Bergamo e mi saluta! Ma che bello! Che bello! Che bello! Allora, non è un momento sfogo. Direi piuttosto che è decisamente... Sto controllando un attimo, eccolo, qua era, qua era, perfetto. Ma è decisamente una situazione molto più tranquilla, tranquilla. In realtà, a farmi pensare di dover fare un video del genere, è stato il triste avvenimento del trovare un profilo Twitter in particolare. Oh, questa è una persona che ha risposto al mio commento, anche se... Non so perché di tutto il mio video si sia concentrato solamente sul fatto che gli italiani abbiano subito qualcosa di brutto, paragonandolo a quello che hanno visto... Vabbè, fa niente. Stai il fatto che mi sono ritrovato qui. Questa pagina è abbastanza terrificante. Ok? È abbastanza terrificante. Samuel mi chiede se ci siano video che io ho sacrificato, scartato completamente. Mediamente i video che ho scartato o sono video che ho rimandato a farli più avanti, quindi non ve li spoilero, oppure video che sinceramente non mi vengono in mente in questo momento. E, ok, a parte di tanti mi piace che continua e le condivisioni che sta continuando a ricevere, fin qui ci sta. Nel senso che... Certo, so che una persona che sta pubblicando un post del genere probabilmente lo sta facendo perché vuole fare qualcosa anti-LGBT, anti-bianchi, eccetera, anti-anti-neri, eccetera. Però, nonostante probabilmente faccia quello, questo post di per sé è innocente. Tu puoi essere orgoglioso di essere bianco e di essere etero. Per quello, infatti, si chiama Pride, il via Pride, e per quello, infatti... Sebbene ci sia qualcuno che cerca di far sentire in colpa i bianchi, in realtà non è molto condivisa dalla comunità sta cosa. Grazie a Limoteppo per l'abbonamento. Grazie mille davvero. Il problema è che man mano che vado avanti trovo sempre più roba. Cioè, tipo questa. O avanti così, eh. Cioè, frasi come questa, eterosessuali. Che prevengono l'estinzione da più di due milioni di anni. Ho delle domande. Ho delle domande. Io per... Da dove salta fuori quel numero di due milioni? Perché mi sa che è un po' più tempo. Ma... Ok. Vale per tutto, però. Cioè... E' quel genere di cosa che, sì, è vero, gli eterosessuali ci salvano dall'estinzione, senza dubbio. Non possiamo vivere senza eterosessuali. Solo che nessuno ha mai detto che gli eterosessuali non debbano esistere, che io sappia. Sono tante cose di questo tipo, capite? Che non quadrano. Non quadrano. Non quadrano. E c'era un posto in particolare che mi aveva fatto restare particolarmente male, perché mi sono reso conto di quante persone credono davvero a questa cosa, a questi dati, visto che a quanto pare ci hanno pure scritto un libro. Aspetta, ci arriviamo. Sono terrificanti. Ogni cosa che vedi qui è terrificante. Tante di queste sono... Discutibilissime, perché sono basate molto su fraintendimenti totali. Ce ne sono davvero tanti. Davvero, davvero tanti. E mi ha fatto effettivamente male, perché mi rendo conto di quanto queste persone abbiano odio, perché qualcuno viene loro a rompere le palle, ovvero noi gay. E abbiano poi tutta una percezione strana del mondo. Cioè, una persona che pubblica questo post, vuol dire che crede che il gay pride, o meglio, il mese del pride, l'intero mese del pride, sia stata tipo una decisione dello Stato. Nel tipo che lo Stato ha detto, va bene, da questo momento in poi il giugno è il mese del pride. Perché dobbiamo festeggiare gli omosessuali, in particolare, perché hanno in testa solo quelli. E dall'altro lato, invece no, hanno scelto di dare un solo giorno a non so ancora che cosa sia nello specifico questa cosa, ma sicuramente un giorno solo, perché c'è sempre la giornata dello sto cazzo. Però, cioè, mi fa pensare che questa persona creda che siano la stessa cosa, che il gay pride sia una festa commemorativa, o meglio, che il pride in generale sia una festa commemorativa, e che sia stata imposta dallo Stato, capite? Cioè, l'onore ai caduti, perfetto, va benissimo, ma per quello ci si dedica un solo giorno? Perché è commemorativo. I gay non hanno ancora i diritti. Per quello si fa un mese, per sensibilizzare. È come, che ne so, il fatto che ci siano tante feste dedicate alle donne. Perché? Perché sono ancora vittima di violenza, nonostante ci siano tutta una serie di venti di sensibilizzazione. Sì, sì, magari è il D-Day, che ne so io. Ma non è la politica che ha scelto di inserire un mese e dire, ok, questo è il mese dei gay. Cioè, semplicemente è il mese dedicato a queste manifestazioni, per impedire alla gente di farle in altri momenti dell'anno, di base. Però non è la stessa cosa, sono due cose completamente diverse. Qui messa a paragone perché qualcuno non sa che cosa sia il Pride. E ce ne sono davvero tante. E appunto, quella che mi spaventava, non l'ho ancora ritrovata. Eccola qua! Allora, a parte l'utilizzo di certi termini, che è assolutamente inaccettabile, ma... Vi traduco che cosa c'è scritto in alto, ovvero il 92% dei bambini cresciuti da genitori gay vengono abusati. Sì, c'è scritto esattamente, fermate i parola con la F. Esatto, Ovetto, da dove arrivano sti dati? Nel senso che mi sta bene che tu sia contrario al permettere agli omosessori di avere dei figli, di adottarli, eccetera. Nel senso che, ovvio, non sono d'accordo con te, ma mi sta bene che tu non sei d'accordo con me. Il problema qui sono i dati inventati. Come diamine fai a sapere che il 92%, che come cifra è altissima, c'ha tanto di inventata, comunque, com'è possibile che 92%... Cioè, com'è possibile anche solo contare quanti bambini subiscono abusi all'interno di coppie omogenitoriali? Cioè, significa che il 92% delle coppie omogenitoriali sono in prigione. Cioè, perché tecnicamente finché non li becchi tu non sai che stanno abusando. Quindi, da dove arriva questo dato? Come hanno fatto a controllare che il 92% degli omosessuari potessi in qualche modo abusare dei propri figli? Cioè, non puoi controllare un'informazione del genere. E non può nemmeno essere una cosa statistica, perché se si trattasse di una statistica potrei anche dire, vabbè, può anche starci, il 92% è un numero alto, però comunque... Sì, ma non può essere statistica, perché vorrebbe dire che hanno intervistato una serie di omosessuali che hanno ammesso la loro colpevolezza? Mi puzza! Mi puzza tantissimo! E così tanti ammettono la loro colpevolezza non può essere né un vero dato né un sondaggio. Cosa può essere? Da dove arriva questo 92%? Così come il 51% è depresso. Come fai ad avere di nuovo questo dato? Grazie a jboy03, davvero. Grazie per l'abbonamento. Cioè, la depressione non ha mai una causa sola. E raramente ti capita di poter... Cioè, per esempio, le nuove generazioni sono particolarmente depresse. Non è colpa del fatto che nascano da genitori eterosessuali. Cioè, mettiamo il caso che questo dato fosse vero. Come puoi sapere che questo 51% di figli omogenitoriali sia depresso a causa dell'omogenitorialità dei genitori? Non mi torna. Quanti di voi sono depressi a causa della sessualità dei propri genitori? Suppongo nessuno. Perché? Ma perché è una cosa che in realtà non influisce così tanto sulla felicità del bambino quanto altre cose. quindi dovrebbe presupporre che gli omosessuali non siano bravi genitori. Però, d'altro canto, cioè, non torna. Non torna. Ah, giusto! Qualcuno sta facendo notare ma quindi il 41% delle persone abusate da bamb... dei bambini abusati non sono depressi? Touché! Touché! Cioè, quindi il 41% dei bambini che vengono abusati non è depresso? Qualcosa non quadra qui. Qualcosa non quadra. Così come il 72% sono obesi. Non mi torna nemmeno questo dato perché in che modo? Cioè, l'obesità è considerata una cosa così negativa negli Stati Uniti dove c'è un problema di obesità. Chi mai nel resto del mondo andrebbe a controllare quale percentuale dei figli degli omosessuali è o meno obesa? Non funziona, non funziona. Qui mi dicono là in fondo ci stanno le fonti. Infatti ci stavo arrivando. Le fonti? Un libro. Uno solo. Uno solo. Un solo libro. Quali sono le fonti di questo libro? Non saprei ma già dal titolo ovvero vittime invisibili. Poche parole dilagante insensata depressione tra gli adulti tra i figli di genitori omogenitoriali. Come titolo? Sa tanto di grande denuncia sociale in una cosa che ho ovunque ma sa tanto di acchiappaclick quindi se un titolo acchiappaclick se ne esce con dei numeri altissimi altissimi molto più che preoccupanti cioè nemmeno in guerra il 92% dei bambini viene a subito abusi cioè non quadra non quadra gente che mi chiede come ti trovi in Africa non so se mi trovassi nell'entroterra probabilmente mi troverai in modo diverso però essendo che praticamente qui siamo in un mondo occidentale mi trovo bene non so dirvi nemmeno se sia perché mi trovo bene in Africa o se sia perché mi trovo bene in Spagna però io mi sto trovando un sacco bene ecco sa quasi di titolo dei servizi delle iene sì sì poi qui sono felice che l'unico tweet di citazione l'unica risposta è una risposta che dice ma che cazzo dice ovvero in poche parole questa questo post dice che sono sempre esistiti gli schiavi bianchi eppure andiamo a rompere le palle per gli schiavi neri gli schiavi neri sono al centro dell'attenzione e così via non siete speciali anche i bianchi sono stati schiavizzati dai popoli per esempio medio orientali è vero è verissimo ma il problema non consiste nello schiavismo di per sé cioè non parliamo così tanto dello schiavismo dei neri perché sono stati schiavi ma per un milione di altri motivi il fatto che ancora tantissima gente è convinta che i neri debbano essere schiavi quando con i bianchi no ci sono tantissimi modi in cui i neri sono stati disumanizzati durante il razzismo cosa che non veniva fatta agli schiavi bianchi gli schiavi neri sono stati accompagnati da tutta una politica che cercava di disumanizzarli come dice appunto il commento ovvero di trattarli ve l'ho detto nei video sul razzismo che fecero dei giocattoli sui neri schiavi cioè venivano proprio trattati come se fossero una cosa simpatica mentre gli schiavi bianchi non hanno mai subito una cosa anche solo vagamente simile a questa e così via gli schiavi ci sono sempre stati di tutte le culture ma il numero più alto di schiavi al mondo è sempre stato di origine africana gli afrodiscendenti sono stati i primi ad essere schiavizzati proprio in una top ten la misura degli schiavi bianchi è molto più bassa degli schiavi neri insomma è quel genere di cosa dove ti dicono a me è crollato il balcone l'anno scorso non dovrebbero lamentarsi delle torri gemelle è vero che parliamo sempre di crollo di edifici ma è imparagonabile cioè è la stessa cosa nessuno piange per te perché ti è crollato il balcone sì ma perché il problema del crollo delle torri gemelle non è il fatto che siano crollate di per sé è tutto quello che ci è successo attorno per quello la gente ne parla tanto per tutte le vittime che ci sono state quali sono le vittime del tuo balcone che cade e mettere a paragone due eventi simili senza rendersi conto che hanno due misure diverse è terrificante è terrificante mi spaventa non conosco Roberto Piemini mi dispiace ragazzi e mi era arrivato recentemente un commento proprio da parte di questo tizio ecco eccolo qua eccolo qua allora credo che non sia molto bravo con il computer prima ha cercato di scrivere un'altra cosa che iniziava con vaffanculo dico solo questo non sono omofobo poi ha ripostato lo stesso commento con un paio di modifiche tra cui togliere il vaffanculo e iniziare con non sono omofobo però dice la stessa cosa proprio copia incollato credo che sia una persona che si diverte molto cioè non è davvero la sua opinione quanto usa questo profilo per lamentarsi delle cose perché un nome come Arancore mi fa pensare a questo ma il problema qui è questo vediamo se posso rendere un pochetto più grande per voi perfetto togliamo questo filtro che tanto non serve e devo tornare giù oh chi ha commentato? ho visto una spunta vabbè mi sarò sbagliato sicuramente e procediamo procediamo poi poi ve li leggo tutti i commenti la maggior parte di questi li ho già letti eccolo qua allora questo tizio ci dice vaffanculo dico solo questo non sono omofobo ma nel mio punto di vista la propaganda LGBT non è altro che la propaganda più tossica viziata capricciosa lamentosa che abbia mai visto sull'intero universo seriamente io non li posso sopportare nemmeno per 30 secondi che già mi esaurisco a causa di quest'ultimo e adesso non correggetemi né smentirmi perché io l'esperienza l'ho avuta io so come vi comportate come vi sentite e io mi sono sforzato il più possibile fino allo stremo delle mie forze per accettarvi ma seriamente non ci riesco neanche un po' allora è un po' un meme in questa cosa del non sono omofobo ma perché in realtà non è che tu tre volte commenti un ma stai per dirle una cosa omofobica stavolta sì stavolta sì sai che Alex come dice mischia troppe cose a caso esatto esattamente e questo è il suo problema si vede che si sta chiaramente riferendo a varie cose allora se diciamo che la propaganda gay è tossica probabilmente si sta riferendo alle persone che spesso cercano di umiliare e far sentire male qualcun altro ok ok ma non fanno parte della propaganda questi sono le persone che singolarmente si comportano così non fa parte della propaganda per i diritti LGBT sono due cose diverse poi viziata è vero poi posso dire capisco che cosa intende perché effettivamente la propaganda LGBT è una propaganda che è spesso pedantesca pretende tanta precisione anche per delle chiamiamole piccolezze non perché davvero siano piccolezze ma perché insomma diciamocelo i neri non rompono così tanto le palle per le singole culture sub-africane quelle piccole cose micro differenze tra di loro e vogliono cambiare tutto quando tu hai a che fare con la propaganda della maggior parte delle persone che stanno pretendendo diritti non hai questa guerra al vocabolario quindi viziata suppongo che sia proprio per il fatto che il mondo LGBT pretende tante cose molto specifiche e molto difficili da accettare d'altro canto di nuovo ok viziata ma perché stai mescolando la propaganda che effettivamente rompe le palle su queste cose e di nuovo le singole persone e ci può stare d'altro canto tu te la stai prendendo con gli omosessuali non con gli omosessuali che si comportano in modo scorretto per esempio non quadra super tigro ci dice ricordiamo che i movimenti LGBT non sono rappresentativi degli omosessuali sono movimenti non eletti democraticamente esatto oppure questo va ricordato non è che noi omosessuali abbiamo votato che ci deve rappresentare capita che capita capricciosa che è sempre legato a viziata cioè capriccioso è il modo in cui si manifesta il fatto che tu sei viziato lamentosa che è un termine che sta qui per ribadire suppongo ma più o meno è ridondante rispetto ai precedenti due però ci sta e fondamentalmente non possiamo dargli torto perché ma perché lui non ha detto niente ha detto che non ci sopporta va bene non sopportarci nessuno ti costringe a farlo però appunto mi ritrovo un sacco di commenti di questo tipo che si basano proprio sulla non comprensione cioè è come se io dicessi che la propaganda etero è fastidiosissima perché parlano sempre di calcio sì ma io sto proprio sto chiamando propaganda etero una cosa che non rappresenta assolutamente gli etero è sì fatta dagli etero ma al tempo stesso c'è da discutere per ore di quanto venga fatta dagli etero di quanto abbia a che fare con il fatto di essere etero e così via c'è Emma Gaia ci dice sì però non possiamo mettere ogni volta la comunità trans sotto il tappeto gli omosessuali e le persone trans sono persone diverse le persone trans hanno diritto ad esprimere le loro esigenze che spesso poco o nulla centrano con quelle delle persone omosessuali anzi aggiungo il dettaglio che LGBT non sono persone che hanno a che fare tra di loro partendo da quella che in un certo senso è una battuta gay e lesbiche sono in guerra cioè non sono la stessa fazione gay e lesbiche che vengono spesso paragonati sono due cose completamente diverse tra l'altro spesso intese come complementari ma non lo sono gay e lesbiche non sono complementari sono seriamente molto diverse cioè non sono complementari come lo potrebbero essere il lupo e la tigre sono proprio a livello di che ne so il pesce gatto e l'amicizia cioè non sono seriamente diverse non sono sulla stessa lunghezza d'onda così come le altre lettere che ci sono in LGBT abbiamo aggiunto la A la A contiene persone che sono state discriminate completamente a parte rispetto agli omosessuali nessuno avrebbe mai pensato di mettere a confronto asessuali e omosessuali nessuno nella storia dell'umanità ha mai messo assieme queste due figure e gli asessuali non hanno subito quasi nulla di quello che gli omosessuali hanno subito per esempio i campi di concentramento o gli internamenti nei manicomi o l'illegalità essere assessuale non è mai stato illegale in nessuno stato subiscono discriminazione ma è di un altro tipo e infatti hanno esigenze diverse rispetto agli omosessuali nelle persone intersessuali sono le persone che hanno bisogno per esempio dell'utilizzo della CFA oppure del rompere il binarismo maschio-femmina gli intersessuali hanno davvero grande urgenza di questa cosa della loro principale battaglia perché scusa tu sei nato con un pene e una vagina cioè la situazione degli intersessuali è particolarissima beh per darvi un'idea per quelli che non sanno che cosa siano gli intersessuali un esempio di intersessuale potrebbe essere una ragazza che nasce da neonata con un pene e una vagina e o meglio è un bambine non è una ragazza il punto è che il medico prende in mano questa povera creatura vede che ha questa cosa strana potrebbe vivere tranquillamente potrebbe arrivare tranquillamente a 150 anni che ne so io potrà vivere quanto vorrà senza problemi perché non ha nessun tipo di malattia ma visto che non è considerato normale chiede ai genitori volete una schiatura o una femminuccia e senza sapere come si svilupperà questo corpo senza sapere nulla e casomai qualcuno di voi desse così tanta importanza al DNA nemmeno controllando il DNA ovviamente perché non si fa con i neonati semplicemente gli si fa un intervento chirurgico e o si taglia il pisellino lo si rende una femminuccia o gli si rimuove in qualche altro modo la vagina lo si rende un maschietto fine è una persona intersessuale è un esempio di persone intersessuali non sono così ma è un esempio un intersessuale si ritrova così no i ermaforoditi tecnicamente li hanno entrambi funzionanti un intersessuale soprattutto perché in genere vengono corretti da neonati non sappiamo fino a che punto funzioni uno o l'altro magari fa pipì dal pene ma l'organo sessuale è completamente legato al clitorio della vagina all'utero cioè non sono veri i propri ermafroditi gli intersessuali sono tutte quelle persone che per esempio per esempio non sono solamente questa cosa ma per esempio nascono con queste caratteristiche e niente si fa un intervento chirurgico neonato che già così è una cosa aberrante per correggere una cosa che in realtà non gli fa del male per poi ritrovarsi questo bambino che una volta cresciuto avrà un problema di tutt'altro tipo ovvero immagina tu arrivare a 12 anni e sei una bambina e improvvisamente mentre le tue amiche crescono i seni a te crescono i batti mentre alle tue amiche iniziano a diventare sempre più belli i capelli a te iniziano a crescere i peli sotto le ascelle in modo prepotente mentre i loro visini diventano sempre più femmini il tuo diventa sempre più mascolino e che sta succedendo? eh sta succedendo che in realtà il tuo corpo ha pensato per svilupparsi un po' più sul maschile ma ti ritrovi ah fregato e magari in tutto questo hai le mestruazioni è un problema hanno bisogno di combattere per tutta una serie di diritti che con gli omosessuali non c'entrano nulla cioè gli intersessuali non hanno così tante esigenze legate al matrimonio quanto al tutelare i neonati fare in modo che non subiscono questi interventi fare in modo che non esista più il binarismo e quindi non venga visto come sbagliata una persona che nasce in realtà senza nessun tipo di problema semplicemente con un aspetto insolito là sotto normalizzare tutto questo è tutto un percorso è tutta una lotta completamente diversa da quella omosessuale Super Tigro ci dice vorrei fare una precisazione per quanto riguarda i campi di concentramento è iniziata la deportazione partendo dagli omosessuali presenti nelle SA dopo che il leader Ernst Romm è stato considerato un traditore e il persecutore è stato Harry Himmler un finto pagano che aveva interesse al potere ok è interessante e che cosa succede se non fanno nessun intervento la maggior parte delle volte niente assolutamente niente crescono con alcuni aspetti maschili altri femminili anche perché non è che questo intervento è un intervento che fate a bambino poi basta ti ritrovi a prendere pastiglie per tutta la vita nella maggior parte dei casi Alphatross dice c'è Eric una domanda per te ritornerai a fare video su Steven Universe sì sì non vi preoccupate che sta per arrivare qualcosa anche qui su Twitch su Steven Universe ma di quello parliamo in un altro momento insomma capisci anche tu che quando una persona non sa dell'esistenza degli intersessuali pensa che sia un'altra di quelle parole inventate dai gay finisce per avere tutta una percezione palsata della comunità LGBT per esempio che ne so chiedetemi una parola da inserire vediamo una parola da inserire all'interno dei commenti e vedere che succede quanti commenti hanno utilizzato quella parola ovviamente non chiedetemi parole proibite sia perché su Twitch non ci sono sia perché è improbabile che YouTube le abbia lasciate il primo che ha scritto è demisessuale Mattar Cicero che dice io sono vegana metallara ambientalista dimisessuale proveniente da una famiglia ai margini della società è di mentalità aperta in una zona molto retograda conosco bene le discriminazioni ci sarebbe da discutere su quanto i demisessuali siano effettivamente discriminati però per tutto il resto assolutamente si nel senso che non sto dicendo che i demisessuali non vengono discriminati ma una volta che sei vegana sei già abbastanza discriminata non serve specificare che sei pure demisessuale cioè se salta fuori che sei pure nera abbiamo fatto la combo comunque ok vediamo 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 ecco vedo un commento molto carino boh per me le uniche sessualità esistenti sono etero bisessuale omosessuale pansessuale polisessuale demisessuale eccetera sono cazzati mani inutili sono semplicemente la classificazione fatta dalla moda del 2020 2021 di categorizzare tutto perché alla fine è così siamo tutti diversi oggi uno dice di essere demisessuale ma per me lo fa per moda appunto lo stesso vale per i pansessuali che sono tutti gli altri pazzoidi anche i pronomi sono diventati un trend per me perché sinceramente se tu ti senti maschio o femmino non frega un cazzo nessuno lo dice una persona magari per sentire il tatuaggio ma sventolare il he him he her nella bio è inutile capite un commento così si basa molto sul non sapere come funziona tutto questo tanto per iniziare pansessuale e bisessuale sono diverse perché? perché io posso essere bisessuale perché sono un gay che si farebbe anche una donna e sarei bisessuale non sarei pansessuale un pansessuale non dà importanza al genere mentre un bisessuale è interessato a entrambi i generi un pansessuale quindi è attratto dall'organo genitale perché è un organo genitale mentre il bisessuale è attratto dall'entrambi e cose del genere ma il punto è qui dentro abbiamo parole che però non c'entrano nulla mi dice pansessuale che è ok è un'altra delle sessualità principali poi mi dice polisessuale e poi mi dice demisessuale allora demisessuale è una sottocategoria della asessualità capite? questa persona ha messo demisessuale perché ha sentito utilizzare queste parole in mezzo a tante altre e ha dato per scontate due cose primo che essendo che contengono la parola sessuale siano tutte grandi categorie e non sotto categorie più specifiche e secondo che contenendo la parola sessuale in qualche modo fossero interessi sessuali orientamenti quando un demisessuale non non è una persona che ha a che fare con il mondo omosessuale visto che qui mi dice che l'unica esistente sono etero bisessuale omosessuale demisessuale puoi essere tranquillamente etero capisci? è lì il problema non conoscenza dei termini poi sono d'accordo perché è un intero video in cui dico non è necessario essere così specifici cioè questo è proprio un video il cui punto fondamentale è me che dico non bisogna essere così specifici non è necessario è vero serve l'esistenza di questa parola ma rompere il cazzo alla gente perché non conosce il significato di una parola che in realtà riguarda una cerchia specifica di persone no cioè diventa solamente confusionario per tutte le persone che non sono interessate cioè che diamine è come la gente che giustamente vuole fare la distinzione di avere tipi di videogiochi e allora dice non chiamatele videogiochi e chiamatele con la loro sottocategoria sì ma una persona a caso che non è interessata al mondo dei videogiochi perché dovrebbe impararsi un milione di parole va bene bene che utilizziamo solamente quelle che consideriamo principali ci può stare poi puoi dire come curiosità il fatto che ok in realtà più nello specifico sono quest'altra cosa però appunto cercare di utilizzarle come segno di videogiochi può essere un male cerchiamo un attimino di capire che stiamo comunque entrando in un mondo in cui tutto questo prima non c'era e dobbiamo fare un pochettino alla volta non cerchiamo di rompere le palle per essere specifici perché a un certo punto essere specifici è più fare il maestrino che nemmeno combattere per i propri diritti combattere per i propri diritti significa prendersi da briga ogni volta di spiegare alle persone e sopportare che primo non capiscano secondo non si abituino subito con calma con calma e per l'appunto questa persona che mi dice uno che dice di essere demisessuale per me lo fa per moda punto non sa che cos'è un demisessuale allora perché ovvio come ho detto all'interno anche di questo video nominando i demisessuali ci sono persone che si definiscono demisessuali perché non hanno capito a loro volta il significato della parola pensano che visto che non la danno al primo appuntamento allora basta sono demisessuali no la demisessualità è una cosa diversa è una forma di assessualità dove l'interesse sessuale ti si può sviluppare ma come parte integrante di una relazione romantica è appunto questa moda del 2020-21 crede che queste parole siano state inventate ora siano tutte parole recenti quando sì ci sono alcune di queste parole che sono recenti ma pansessuale non è per niente recente questi termini etero bisessuale omosessuale sono tutti quanti nati per scopi medici tanti 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 anni fa ok davvero tanti anni fa ma secondo me Emma Gaia ci dice ma secondo me la specificità serve nel tuo nel senso serve a non sentirsi isolati strani trovare gente che condividi i tuoi gusti esattamente esattamente serve a comprendere te stesso e a trovare altre persone come te non serve a imporre a tutti quanti l'utilizzo del termine corretto capite cioè io arrivo dal mondo dei colori ho studiato arte e non andiamo a rompere il cazzo alla gente quando non sa distinguere un polenta da uno zafferano quando non sa distinguere un senape da un'ocra perché? perché sappiamo che la gente li chiamerà tutti giallo e non c'è un problema per questo perché io ho bisogno di conoscere il colore specifico se tu mi devi scegliere questa mattonella o quest'altra ma non vado a romperti il cazzo se mi dici in mezzo a una pila di magliette tutte di colori diversi e prendi quella gialla non ti vengo a dire oh no ma questo in realtà è il canarino perché dovrei non serve essere così specifici o anche quando si riferiscono a me io ora sono all'estero ok? ora vivo all'estero la gente mi dà dell'italiano io non vado a rompere le palle dicendo sì ma in realtà sono italiano lombardo ma chi se ne frega? cioè al massimo lascio loro come curiosità ah sì in realtà io arrivo dalle Alpi fine non vado a specificare tutta quanta questa roba The Booker 96 che cita il Blue Piscina e lo Zima Blue infatti infatti non so cosa sia l'acetazione ma quello è un cobalto perché me lo chiami Blue Bauxite però Caiociani invece conosco la tua acetazione ovvero l'acqua non è verde Marco Merrino stava scherzando quello che penso che bisognerebbe cercare di istruire le persone sull'argomento perché finché qualcuno non sa cos'è una certa cosa e come è fatta avrà solo più difficoltà ad accettarla assolutamente sì assolutamente sì la priorità deve essere sempre e solo istruire ok? ah ma è pieno di persone che non comprendono tutto questo e ha senso perché c'è una grande disinformazione e confusione c'è un sacco di gente che non dovrebbe permettersi di parlare di questi argomenti e lo fa io per primo non sono particolarmente preparato ma il mio canale non si basa su questo ci sono persone che hanno basato il loro intero canale sullo spiegare il mondo LGBT e fanno errori madornali perché davvero trattano tutto come un segno totale ok? e queste persone finiscono per far danni perché sono quelli che combattono per il fumo sono quelli che vanno a rompere le palle delle persone che in realtà non sono interessate all'argomento finendo per diventare sì fastidiose ma senza diffondere informazioni solamente il fastidio che ne deriva e per l'appunto ci sono dei casi nello specifico che mi hanno un attimino messo tristezza per esempio quello di Ricky Gervais allora non credo di potervi mostrare la scena purtroppo la scena no non posso mostrarvela già comunque Ricky Gervais è uno dei più grandi comici del black humor di sempre è fantastico io adoro Ricky Gervais è uno di pochi che davvero mi ha fatto crepare delle risate io ho guardato c'era la prima volta che ho guardato humanity l'abbiamo dovuto mettere in pausa perché non riuscivamo a respirare io non riuscivo a respirare e io sono una persona che ha molta difficoltà a ridere di gusto da sola lì davvero io da solo me lo stavo riguardando in aereo in un volo da Napoli a Milano e mamma mia stavo crepando io da solo in aereo che ridevo come un coglione per humanity ed ora è uscito un nuovo spettacolo di Ricky Gervais chiamato Superhuman nel nuovo spettacolo c'è una battuta che è stata iper fraintesa Sassotomico che dice tanto io ho solo 520 film nella watchlist mi servono sicuramente altri film da vedere bene dimmi Sassotomico quale film vuoi che ti consigli perché tu stai nominando Supernatural ma non è un film è uno spettacolo quindi che film vuoi che io ti consigli descrivimi quello che ti serve certo che potete fare domande comunque se li ignoro riprovateci perché comunque sto parlando e a metà di un discorso cerco di non interrompermi per l'appunto in Supernatural Ricky Gervais se ne è uscito facendo una battuta dicendo che lui alla fine è una minoranza perché lui è vero è bianco che è una maggioranza va bene poi è etero ed è una maggioranza ma è ricco è ricco sfondato è milionario forse addirittura è un miliarderno affido che sia solo milionario da di fatto che fa parte di meno dell'1% della popolazione mondiale è assolutamente una minoranza è una minuscola minoranza è una battuta tante persone se ne sono uscite credendo che fosse vero e quindi se ne dicono vedi vedi Ricky Gervais che combatte sempre per i diritti l'ha detto comunque questa cosa anche lui è una minoranza eppure non combatte per i propri diritti solo perché è una minoranza sì come dice Astro Andy matematicamente ha ragione ma lui ha fatto questa battuta proprio perché quello che stava dicendo era assurdo era fondamentale che quello che stava dicendo fosse assurdo era lì che stava la battuta nel fatto che lui non è per un cazzo una minoranza perché è vero sono pochi gli straricconi ma sono i più potenti della terra cioè quando parliamo di una minoranza che combatte per i propri diritti ci riferiamo a una minoranza che è discriminata esempio molto veloce le donne che indossano collane di perle sono una minoranza combattiamo per i loro diritti? no cioè sono in poche ad indossare una collana di perle ma che cazzo gliene frega qualcosa cioè qualcuno ha mai discriminato c'è mai stato un movimento politico per discriminare le donne con le collane di perle? no c'è mai stato bisogno di più rappresentanza di donne con collane di perle nei media perché si sentono poco rappresentate? no perché? perché non c'è mai stata un'oppressione nei loro confronti parliamo di minoranza quando qualcuno viene oppresso e non può permettersi di fare una vita tranquilla e fa parte di una minoranza vengono chiamate le minoranze della nostra società perché è una parola semplice per riferirsi ad un insieme di persone che hanno una certa caratteristica tra cui una delle caratteristiche principali è il fatto di essere minoritarie però non è che perché siete in pochi allora siete una minoranza perché a quel punto anche le persone imparentate con me in modo molto diretto con un legame molto stretto con un sanguigno sono una minoranza e allora dobbiamo combattere per i nostri diritti no perché nessuno già era con noi ah erico ma è vero che nella comunità omosessuale c'è una gerarchia? no no però ci sono persone che cercano di imporre cazzate che voi non avete idea anche nella comunità omosessuale è piena di idioti ricordiamo che l'oppressione dell'omosessualità viene dal mondo abramitico nel mondo pagano non c'era nessun problema con l'omosessualità in realtà non arriva solo dal mondo abramitico non è esclusivo del mondo abramitico però sì cioè parlando dell'Europa nella cultura celtica se non sbaglio e in generale nella cultura pagana non c'erano problemi con l'omosessualità perché le religioni abramitiche hanno iniziato a rompere le palle all'omosessualità? perché derivano tutte quante dall'ebraismo e gli ebrei avevano tutta una serie di cultura rispetto al mondo e un'etica che era inconciliabile con l'omosessualità tutto lì candido marge simson come capo del sindacato delle donne con collanne di perle io invece no perché lei è solo un plagio io metterei vilma flingstone i greci venivano educati ad essere omosessuali ok comunque in tutto questo non utilizzata come cavallo di battaglia perché i greci e il mondo pagano difendeva anche la pedofilia ok cioè e non difendevano tutti gli omosessuali ma gli omosessuali attivi non quelli passivi cioè tutta una serie di piccole cose quella che stonano non non basate mai il vostro ragionamento sul l'hanno fatto loro possiamo farlo anche noi mai né da un lato né dall'altro è sesso atomico ti consiglio un film ma dimmi tu che cosa stai cercando che tipo di film stai cercando perché è così che funziona quel tasto ci dovrebbe essere la descrizione per esteso sotto ovvero tu dammi le caratteristiche di un film che vorresti vedere io ti dico quale potrebbe essere il film adatto a te Asiatrix mi dice ciao Enrico sono una ragazza di 15 anni non riesco ancora ad etichettarmi non devi quindi non so ancora il mio orientamento sessuale anche se so che cosa mi piace a volte a volte questa cosa mi sento a disagio non saprei nemmeno il perché forse perché vedo delle mie amiche molto assicuro a riguardo secondo te cosa posso fare non c'è nessun disturbo e grazie a te per la domanda perché è davvero una domanda utile a tante persone che ci stanno guardando ovvero ragazza mia tu non ti devi definire chi l'ha detto che devi farlo puoi anche non trovare mai nella vita una definizione queste etichette sono comode per poter comunicare con gli altri ma non sono necessarie anzi davvero non ti preoccupare di trovarla se ti capita a un certo punto di dire vabbè sì ok sono che ne so bisessuale va bene va bene bisessuale ok se poi cambi idea e dici no in realtà sono più pansessuale vabbè chiamati pansessuale sai che mi cambia ma non pensare che sia necessario per forza avere un'etichetta ok non è necessario tipo avere per forza un colore preferito o avere per forza un animale domestico preferito o cosa del genere non ti preoccupare non ti devi etichettare se ti capita capita se non capita non stai perdendo nulla ok anzi ti senti costretto a farlo perché viviamo in una società che cerca di costringerti a farlo perché è comodo perché è facile ed è rassicurante ma non è necessario su particolo che mi dice no dai non difendeva la pedofilia Pratone dice chiaramente che l'amore tra uomini deve esserci quando c'è maturità sì ma era normalizzata la pedofilia ovviamente non con i neonati che comunque è un altro nome ma con effettivamente ragazzini che si ritrovavano praticamente costretti a dover avere rapporti sessuali prematuri cioè avevano normalizzato questa cosa ovvio lo stupro era considerato sbagliato ma la molestia no? capite? mi sento di fare una precisazione sì che nel mondo cristiano gli omosessuali non erano vestiti troppo bene ma tra cattolicismo e le varie chiese protestanti cerco il cattolicismo in quanto nulla ammazzava almeno verissimo verissimo in Italia non c'è mai stata una legge contro gli omosessuali sono sempre stati discriminati ma non c'è mai stata una legge non è mai stato considerato ufficiale nel catechismo della chiesa cattolica del 1400 o 1500 oh mio dio sto avendo problemi da discalculico il cazzo di concilio di Trento comunque in quell'epoca hanno deciso che l'omosessualità fosse una cosa in realtà sì vero da curare ma da accettare come una delle possibilità dello spettro umano che era normale che un essere umano potesse avere non andava ovviamente praticata ma non c'era niente di male super tigro non mi ricordo che cosa avessi detto prima Astro Andy ci dice pensando al fatto che le religioni abramitiche oggi ci sono molti cristiani super bigotti che fanno le parate contro l'LGBT e cose così non si accorgono che a fare così è in contrasto con ciò che voleva Gesù Cristo cioè mica Gesù aveva detto se a quello ti piace il cazzo bruciatalo Gesù no ma viene detto in varie occasioni durante la Bibbia sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento non da Gesù è vero non da Gesù ma alla fine tante delle cose che fanno i cristiani non arrivano da Gesù in più fondamentalmente tutte le discriminazioni arrivano dall'ignoranza tu discrimini perché c'è qualcosa che non sai sempre sempre perché tutto quello che noi abbiamo scoperto studiando e scoprendo cose è proprio che tutto ha un senso è più una scelta che cosa sia etico o non etico non esiste una fattualità nelle cose più tu studi la Bibbia più scopri che all'interno della Bibbia ci sono grosse contraddizioni anche sul tema omosessuale più scopri che anche la Bibbia non è coerente su certe cose e se più studi più accetti semplicemente tranquillamente quello che è davvero importante nella Bibbia quello che è davvero il messaggio di Gesù Cristo a prescindere dal fatto che poi ci sia un pezzettino di un libro che non hai letto perché lo so che non l'hai letto io so che nessuno ha letto il Levitico ma tutti citano quel cazzo di pezzettino di Levitico insomma se tu non sei ignorante ti rendi conto a un certo punto di che cosa è importante nella Bibbia e che cosa no che cosa è rilevante o che cosa no se tu vuoi citarmi il Levitico perché dice che siamo contro gli omosessuali allora sono due le possibilità o inizia a fare tutto quello che ti dice il Levitico perché non scegli tu quali regole sono importanti e quali no a questo punto o le utilizzi effettivamente oppure comprendi quanto il Levitico fosse in realtà figlio della sua epoca e scritto da un essere umano per chi non lo sapesse nel Levitico è scritto anche che i cristiani o meglio gli ebrei in teoria non dovrebbero assolutamente mangiare gamberetti è considerato peccato mortale quindi se avete mai visto un cristiano mangiare un gamberetto sappiate che sta violando una legge una regola che sta a poche righe prima di quella che dice gli omosessuali mi sono sbagliati Sesso Tomico dice consigliati un film bello frizzante bello che mi faccia anche ridere Forrest Gump dimmi che l'hai visto Forrest Gump se non l'hai visto questo è un ottimo film per partire se vuoi una cosa frizzante che ti fa un sacco ridere e ti fa star bene Forrest Gump nelle video che ho anche scritto ah già l'hai visto ovviamente perfetto 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 altrimenti un altro film frizzante che ti può far ridere e che può alleggerire la situazione vediamo lo so Sesso Tomico che è un gigacalto ma tu non avevi visto Harry Potter che cosa vuoi Astro Randy dice di fatto mi sto abbastanza allontanando dalla chiesa perché è una vera e propria istituzione creata dall'uomo e contaminata dall'uomo stesso ma possono comunque avere un sacco di ragione ecco il Michelo ha ragionissima guarda Gran Budapest Hotel Gran Budapest Hotel Porto Col Folle è proprio un film comico ma Gran Budapest Hotel è un film che ti fa ridacchiare e che al tempo stesso è un film molto interessante e molto curioso e niente ha visto pure quello va bene allora iniziamo a tirar fuori qualcosa iniziamo a tirar fuori le mie recensioni su Telegram così ne consigliamo uno decente intanto voi se avete delle domande fatemelo pure vediamo 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 una cosa bella leggere godibile carina di qualsiasi genere e il problema è che ce ne sono così tanti che io ne sto cercando uno che sia abbastanza famoso da essere effettivamente un successone ma non così famoso da assicurarmi che tu l'abbia già visto quindi vediamo vediamo un sacco di gente che mi sta seguendo ora mentre avete questo momento di pausa dai che ce la possiamo fare dai che ce la possiamo fare qualcosa che sia anche divertente che sto avendo davanti un sacco di esempi di cose che in realtà non sono divertenti effettivamente visto che è una tipica commedia ma al tempo stesso è in tema con quello di cui stiamo parlando sai che cosa ti potresti guardare e non cercavo un film oh mio dio la gente che mi dice la ballata di Buster Scruggs wow non male come opzione però ti stavo proponendo un grande classicone dimmi che l'hai visto una settimana da dio dimmi che l'hai visto perché visto che non hai visto Harry Potter io non posso mai sapere che cosa mi posso aspettare visto che stavamo parlando di cristianesimo ci potrebbe un sacco stare però si ecco Sasotomico se lo conosci ma non l'hai visto vai guardati una settimana da dio ragazzi so che qualcuno di voi mi sta per picchiare ma io ho appena rinunciato a proporre Little Miss Sunshine per proporre una settimana da dio andiamo di ignoranza andiamo di ignoranza per bene ok dio mio zekarex ha avuto bruttissime esperienze oh Sasotomico perfetto l'hai visto Little Miss Sunshine quindi siamo perdonati allora che altro c'è oh mio dio ricordo questo casino oh mio dio oh mio dio ecco ecco ricordo questa cosa grazie mille Stevens Bubble che era intervenuto me ne ero dimenticato allora che era successo che con questo video qualcuno si era offeso perché quando ho detto non puoi definirti demisessuale solo perché non vuoi darla al primo appuntamento la gente l'ha presa come un stai chiaramente prendendo in giro i demisessuali no no sto dicendo che non puoi utilizzare questa definizione quando non è per parte cioè non puoi pensare che demisessuale significa che non voglio dare al primo appuntamento non puoi definirti demisessuale perché non vuoi dare al primo appuntamento non perché non esistano i demisessuali ma perché tu non puoi definirti così per questo motivo cioè è letteralmente quello che ho detto solo che quello che è successo è che credo che abbiano un frainteso cioè il primo commento è mi spiace informarti che in questo video hai sbagliato la definizione di demisessualità e di sappio sessualità magari prima di parlare di cose di cui non sei competente faresti meglio di informarti se è l'ennesimo esempio di persona che fa parte della lgbt e che svaluta gli altri orientamenti se è l'ennesimo gay afogo allora allora nel video io non ho dato nessuna definizione di demisessualità non l'ho data proprio ho detto solo che non puoi definirti demisessuale per questo motivo così come non puoi definirti sapio sessuale perché preferisci ragazzi intelligenti perché la sapio sessualità non è quella la sapio sessualità è un'attrazione vera e propria verso quello che è la cultura oh c'è stato mi ho recuperato giù uno gay afogo perché ci sono persone che discriminano gli assessuali assoluto a qualcuno può sembrare assurdo ma vi posso assicurare che la discussione è molto molto pesante anzi la stessa pagina che mi stava criticando in questo commento è la stessa pagina con cui avevo parlato qualche mese prima proprio perché avevo diffuso questo video di questa tizia che diceva di quelle cazzate diceva oh mio dio non avrei mai pensato che ci potesse essere così tanta afobia in Italia dove questa tizia durante un un programma tv ha iniziato a fare un discorso sul fatto che chi non vuole avere rapporti sessuali è malato in generale se che Alex mi dice Enrico conosco le persone che erano contro di te per il video ma posso assicurarti che non sono persone cattive ma erano stufi di non essere credute ma infatti ma infatti cioè io avevo già parlato con loro non erano persone cattive però qui boh hanno frainteso quello che ho detto ma in modo molto più che evidente perché nessun altro era inteso in questo modo cioè se ci fate caso nei commenti non c'è nessuno a parte loro che commentano la questione demisessuale in quel modo la maggior parte commentano e dicono oh mio dio quanto non sopporto le persone che si definiscono demi ma in realtà eccetera 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 quanta risonanza ha avuto da te il discorso spagnolo di Giorgia Meloni zero sapevo neanche che ne avesse fatto uno veramente ti accusano di questo no solo mi hanno accusato di questo ma io qui ho discusso con loro sul fatto che guarda ho detto non puoi definirti demisessuale solo perché ti piace conoscere persone prima di farci sesso non ho mai detto che cosa fossero in realtà ho solo fatto esempi di cose da non fare ma dal video si capisce si capisce proprio ben altro può essere può essere però un attimo dopo mi dice tu trapporti sulla demisessualità discriminatorio il fatto che tu l'abbia definito una cagata cosa quando io ho definito la demisessualità una cagata ho detto che questo presuppone tantissime cose la causa dell'omofobia un errore della comunità lgbt c'è il capitolo uno degli errori della comunità lgbt è usare con molta leggerezza le definizioni e quindi questo pensa che la causa dell'omofobia e un errore della comunità lgbt siano questo la demisessualità no non ho definito dimisessualità così capite sono tante parole messe in bocca a una frase con la sciatola lì da sola ovvio col senno di poi avrei detto guardate la definizione è questa quindi non puoi definirti ma perché avevo dato per scontato che la gente sapesse la definizione e appunto tutta questa cosa è stata di questo tipo c'è tutte cose che lui crede che io intenda ma che nel video non dico ci può stare che sia fraintendibile ma che cosa è successo e lì mi sono incazzato io qui mi ero davvero incazzato perché perché è successo questo ora non c'è più il video tranquilli ma fondamentalmente hanno preso il mio video l'hanno tagliuzzato per farmi dire cose completamente diverse da quello che stavo dicendo proprio una cosa la scubidoo 2 capite una cosa proprio del cambiare l'ordine delle frasi togliere il pezzo in cui dico non in modo che io dico che invece è così del tipo questa cosa non è giusta allora mi tagliano e non mi fan dire questa cosa è giusta questo genere proprio a livello di scubidoo mi fan dire delle cose terrificanti che non c'entrano niente con quelle nel video e la gente non solo va a commentare loro dicendo oh mio dio allora lui è afobo dobbiamo segnalarlo e ho ricevuto segnalazioni parecchie tra l'altro sia su instagram che per questo video ma per di più mi sono incazzato perché scusa ti dicono che io ho detto quella cosa guarda il video qualcuno è venuto anche a scrivermi dicendo ma non ti vergogni io ho detto guarda se è vero che io ho detto questa cosa guarda il video guarda il video il punto è che loro hanno davvero tanto modificato tutto quello che ho detto un sacco di gente non ha voluto vedere il mio video perché non ti regalo visualizzazioni e niente praticamente hanno fatto così questo è quello che è successo e mi sono ritrovato a dover discutere ora io quando discuto con qualcuno non chiamo mai persone a darmi corda o simili perché lo trovo cringe quindi non andate a commentare sta roba non andate a cercare la pagina la cosa è già finita magari si sono anche resi conto hanno già chiamato idea non lo so ok però cioè fondamentalmente è quello ma è quello scemo di zine epiche o come si chiama non so che cosa sia di che cosa stai parlando lo sai che hanno tolto il non mi piace su youtube c'è lavoro lo so ci hanno avvisati mesi prima che li togliessero e ci hanno detto da subito tutto quello che succedeva quindi che l'interazione sarebbe contata lo stesso ma non sarebbe stata visibile per voi che noi avevamo comunque accesso a scoprire la percentuale di mi piace rispetto a non mi piace e così via 151 g di manpearl manpeat non so come chiamare minpeat non so come ti chiami però mi dici scusa ma le persone che discriminano la comunità lgbt non sono sempre omofobe o il termine cambia cambia il termine sia perché è ancora abbastanza aperta la discussione su chi faccia parte o meno della comunità lgbt e così via ma no è omofobo è verso gli omosessuali e le lesbiche e infatti è molto utilizzato come parole perché è effettivamente la forma di discriminazione più diffusa attenzione per quanto riguarda gli orientamenti sessuali per quanto riguarda l'identità di genere la transfobia è comunissima la transfobia è un termine diverso ora non serve utilizzare queste parole sappiatelo però sappiate che esistono esiste la bifobia esiste la fobia e così via chiamiamole discriminazione e basta che facciamo prima e poi beh che altro c'era ancora qualcosa ecco qualcuno che diceva ma altre volte che ti hanno accusato madonnina santa sì ce l'abbiamo ce l'abbiamo basta andare tra i miei video e io ho accesso a un sacco di video che voi non potete vedere e questa era la versione tentata del video sul king shaming che poi ho modificato perché c'era un paio di cose che non erano corrette perché le ho mandate ad alcune persone per dire ok alla fine tutto quello che ho detto l'ho ripetuto giusto e mi hanno corretto e dicono no questa cosa è la data da dire in quest'altro modo l'ho corretta però ho ancora la versione vecchia ce l'ho ancora ma 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 ci fu questo video che è ancora lì il video è nascosto dovrebbe essere disponibile per gli abbonati però risultano in elenco non saprei ma è un video molto particolare perché perché è stato il video che più di tutti mi ha fatto beccare una shitstorm ora la maggior parte dei commenti di questo tipo purtroppo non ci sono più ma 5 avevo realizzato questo video video che tra l'altro mamma mia l'audio era terrificante demifobia bravi che sapete se venissi anche con altre parole si può anche schematizzare le varie fobie come il prendi il termine che finisci in sessuale e metteci fobia metteci anche il termine gender sostituito da fobia e ci siamo ora 5 cose orribili fatte dalla disney fondamentalmente questo è un video con i miei amici dove racconto loro di 5 cose effettivamente orribili fatte da walt disney credo che sia stato tra l'altro l'ultimo video che ho fatto con loro sapete se non sbaglio comunque si per l'audio è stranissimo tornare indietro ma ero povero che vi devo dire eravamo in casa di lorenzo banda al completo ma quale banda al completo che non c'è taco siamo matti e poi c'è giorgio che è stato qui solo in questo video no comunque io praticamente dicevo loro di certe cose brutte che erano state fatte dalla disney loro reagivano semplicemente era quello e sono 5 cose orribili la prima è che walt disney ammazzò un sacco di animali o meglio non lui personalmente ma per conto della disney ammazzarono un sacco di animali un sacco di lemmi per fingere che loro facessero dei suicidi di massa cosa assolutamente non vera oppure il fatto che avesse combattuto per alcune leggi terribili e c'erano alcune che erano davvero assurde tra cui di bambini che erano usciti tra cui di bambini che erano usciti da un programma disney con gravi problemi respiratori e tutta una serie di malattie perché in realtà chissà che cosa è successo là dentro è stato strano ok c'erano tante c'erano tante il punto è che a un certo punto arriviamo al punto 3 al punto 3 ovvero le donne non possono che cosa succede? succede fondamentalmente questo fatto da walt disney in persona ok ovvero maryford che scrive nel 38 quindi nel periodo di bianca neve settenale scrive alla disney per dire scusatemi io sarei in grado di fare questo lavoro e la risposta è letteralmente ok le donne non possono fare questo lavoro la tua lettera di recente è stata ricevuta all'inking and painting departure per ricevere la nostra risposta le donne non fanno alcun lavoro creativo legato alla produzione dei cartoni animati per lo schermo dal momento in cui quel lavoro viene performato interamente da giovani uomini per questa ragione le ragazze non sono considerate all'interno delle nostre scuole di insegnamento l'unico lavoro aperto alle donne consiste nel ricalcare i personaggi su celluloide trasparente eccetera 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 ora sto facendo un video si chiama le cinque cose orribili fatte dalla disney è proprio il titolo del video lo dico all'inizio del video ragazzi vi sto per dire cinque cose orribili fatte dalla disney e a un certo punto arriva appunto questo punto ovvero dove una delle cose orribili è stato rinunciare a una donna a far lavorare una donna in quanto donna quando era ancora vivo quindi 1938 la signorina maryford venne rifiutata dalla disney e c'è la lettera che lo approva davvero con la spiegazione perché c'è una donna non puoi fare il capo aveva ragione ma no allora scusate adesso 1938 ora secondo voi quella era o non era una battuta soprattutto sapendo che loro due erano fidanzati stavano insieme ok non dimentichiamo questo piccolo dettaglio loro due erano fidanzati si stanno punzecchiando a vicenda lo avete capito dalla prima frase qualcuno dice non so perché ma penso sia una battuta ma perché vedete il tono vedete il rapporto tra di loro vedete che lui lo sta facendo per infastidire lei solo per il gusto di fare questo ok ora indovinate un pochettino chi si è beccato la shitstorm da parte di un gruppo di femministe è un sacco di gente abbastanza incazzata fortunatamente non sto beccando gente che nei commenti se l'è presa con me in questo momento perché ricordo che avevano ricevuto un sacco di risposte era proprio partita una grandissima discussione però si sa mai ecco tutto il discorso 3 è basato su quanto il domingo si senta un figo che altro c'era questo che diceva che non voleva i miei amici come ospiti ah ecco questo che non è riuscito dicendo lo penso anch'io però li adoro proprio perché non sono brillanti e seri nei ragionamenti quanto lo sei tu non so se sia un insulto o un complimento ecco questa che mi dice tutto il discorso sulle donne era veramente patetico immaturo ok allora io ho visto il video intero prima del montaggio ho visto tutto quello che è stato detto prima che venissero tagliate le delle parti purtroppo non ho più il video originale perché dal 2019 ci sono stati anche cambi di computer due di cui uno è stato molto drastico il secondo quello che ho ora sono successe tante cose e così via in più conosco loro quindi so che cosa intendono quando dicono certe cose ma lascio voi sentire il discorso ok adesso siamo bella adesso era molto meglio voi avete mai sentito in radio di Letta Leotta io si tutti i giorni tutti i giorni è il più bello di quello la morte di Letta Leotta è una delle tante donne che in Italia ma non perché è colpa loro ma per colpa del misogino vai avanti ascoltami ascoltami un attimo nazista come può una persona più stup così stupida così vuota che non ha niente da dire niente da raccontare come fa ad essere in radio su una delle radio più famose d'Italia esattamente tu hai visto l'ultimo video di Giorgia Meloni no l'unica cosa interessante che Giorgia Meloni abbia detto in tutta la sua vita è questa cazzata qua cioè questo questa cosa anticomunista filofascista per cui noi dobbiamo avere la nostra identità i comunisti ci annienteranno tutti quando non avremo la nostra personalità saremo i cloni di Star Wars io sono Giorgia io sono la Meloni io sono una donna non è detto che avere una persona così emotiva all'interno di un contesto così grande sia una buona soluzione se tu Chiara fossi un pilota d'aereo che pura teastra brava io viaggerei in treno allora tu guidi benissimo lo so allora tu guidi benissimo anche perché sono quella che guida anche tu ne hai che scherzi tu però hai questo piccolo difetto che ti fai un po' prendere dalle situazioni se tu vedi una nuvola vagamente a forma di balena sta citando cose successe per questo sorriso ok è perché sta citando cose successe prima che qualcuno fraintenda il mio sorriso perché non ricordavo questo discorso e io so a che cosa si sta rifarendo magari ti prende nuvola vagamente a forma di balena magari ti prende l'ansia si inizia a sbandare persone troppo emotive magari in un contesto più grande di loro potrebbe portare a un cataclisma a un cataclisma ma cosa vuol dire non è che sono tutte le donne così non è che per forza se hai una donna sei emotiva è bravo tipo la CEO di YouTube è una donna e infatti e infatti ha sputtanato tutto più e più volte no vabbè ma comunque hai ragione io non sono una di quelle persone che fa di tutta l'erba un fascio no sto solo dicendo che una donna non è emotiva non l'ho conosciuta mai non gli dai un attimo cioè non credi che una donna possa gestire qualcosa di grande sì certo la cucina no comunque allora non solo è facilmente fraintendibile ma lui sta davvero sostenendo che le donne siano più emotive ok sta davvero sostenendo questa cosa d'altro canto ci sono così tante battute che invece sono state prese sul serio per esempio perché lui sta facendo il discorso sull'emotività perché lui stava parlando di Giorgia Meloni ed è lì che è partito del fatto che la Meloni incazzata col mondo e spaventata da tutto gestisce tutto in base ad andare di petto sull'emozione oppure chi diletta le otta sia lì semplicemente perché le abbiano dato il suo ruolo per le tette ma se ci fate caso subito in quel pezzo la frase completa è così vuota che non ha niente da dire niente da raccontare come fa ad essere in radio su una delle radio più famose d'Italia esattamente tu hai visto l'ultimo video di Giorgia Meloni no l'unica cosa interessante che Giorgia Meloni esattamente esattamente in Italia ma non perché è colpa loro ma per colpa del misogino vai avanti qui c'è Lorenzo che ha fatto la battuta gridando misogino edo che cosa ha appena detto la morte diretta le otta è una delle tante donne che in Italia ma non perché è colpa loro ma per colpa del misogino che cosa sta dicendo sta dicendo è una delle tante donne come dice dopo che è lì per via dei seni fine che ha il suo lavoro semplicemente perché è sexy e tutto si basa sull'immagine della donna lui dice lei ha questo lavoro perché e a questo punto sta indicando se stesso e sta dicendo l'Italia ora secondo voi che cosa sta per dire perché l'Italia è un popolo bellissimo che tratta le donne nel modo giusto non credo proprio tante donne che in Italia ma non perché è colpa loro ma per colpa del misogino per colpa dell'Italia e sta indicando se stesso e sta andando avanti con un discorso con cui poi viene interrotto a me sembra evidente che sia perché sta dicendo che il mondo è maschilista e visto che l'Italia è maschilista molte donne sono vittime di questa cosa e sta indicando se stesso quando parla di colpa dice non è colpa loro e la prima cosa che fa con le mani è questa che cosa sta dicendo secondo voi un sacco di gente dice che no non è colpa loro è che sono fatte così e sta vindicando le tette sì l'hanno detto davvero che lui sta vindicando le tette per dire no è colpa del fatto che hanno le tette c'è la morte diretta è una delle tante donne che in Italia ma non perché è colpa loro ma per colpa del misogino vai avanti ascoltami secondo voi stava cesticolando per fare le tette o sta vindicando se stesso per dire sono io colpevole siamo noi maschi ad essere colpevoli maschi italiani e mi dà un sacco fastidio perché tantissime delle sue parole sono state fraintese quando in realtà l'unica cosa che davvero ha espresso è che secondo lui le donne sono particolarmente emotive non sono d'accordo soprattutto sul fatto che questo sia in qualsiasi modo collegato al fatto che le donne possono meno prendere posizioni ma il pezzo che io ho tagliato e che ho sbagliato a tagliare è quello in mezzo a tutto questo quando dice che quello che stava spiegando era il ragionamento di Disney che lui capiva il motivo per cui Disney si fosse comportato così non è che sono tutte le donne così non è che per forza sei una donna sei emotiva è bravo tipo queste frasi del tipo non fai di tutta l'erba un fascio qualcuno di voi ha detto il tuo amico qua sotto quando abbiamo letto i commenti è tutto i tuoi amici i tuoi amici chi lui ha detto una frase ha sostenuto una sua opinione diciamo possiamo parlare di quanto quella parola sia misogina ma tu ti stai lamentando del fatto che lui abbia fatto di tutta l'erba un fascio quando tu stai facendo di tutti i miei amici un fascio fascio qui fa quella parola giusta così e questo è il problema capite la CEO di YouTube è una donna e infatti e infatti ha sputtanato tutto più e più volte no vabbè ma comunque hai ragione io non so qui stiamo parlando di Susan oh mio dio come diamo Susan Egan mi pare che è la CEO di YouTube era una battuta pure questa legata soprattutto al fatto che fossimo su YouTube sono una di quelle persone che fa di tutta l'erba un fascio no no sto solo dicendo che una donna non Lorenzo che lo prende in giro dicendo oh no tu non sei uno che fa di tutta l'erba un fascio perché si pensa che lui lo stia facendo in quel momento non siamo d'accordo con lui in quel momento ho lasciato la discussione basta non è motiva non l'ho conosciuta mai non gli dai un attimo cioè non credi che una donna possa gestire qualcosa di grande sì certo una cucina qui non riuscite a sentire quello che ho detto le femministe l'hanno sentito le femministe quelle che mi hanno attaccato ovviamente che da un lato sono bravissime a preoccuparsi di queste cose dall'altro bravi una cucina avevo detto semplicemente una cucina una non emotiva non l'ho conosciuta mai non gli dai un attimo cioè non credi che una donna possa gestire qualcosa di grande sì certo una cucina vedete me che abbraccio Chiara bene gente che mi dice che sono misogino pure io perché ho fatto questa battuta ma io sono sti amici di me ma per il culo iscritti allora il centro di tutta la situazione è che secondo me si potrebbe tranquillamente fare Walt Disney è stato uno stronzo perché non è giusta questa cosa qua ma dal mio pulpito posso dire che io non ho ancora visto una donna che veramente sa gestire bene delle situazioni troppo 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 drammatiche scusa è diverso anche gli uomini sono emotivi si fanno prendere l'unica differenza che magari non lo facciamo notare di più invece voi vi nascondete scolta Chiara scolta Chiara se uno se uno mi facesse cadere un drink sulla tovaglia e mi schizzassi un po' di mojito sulla guancia non mi metterei a fare sono fragile abbracciami no però ci resti un cazzotto un cazzotto gestire la situazione un po' più di petto è un po' emotivo uguale esatto tu mi agisci in modo più aggressivo ma in realtà noi donne la affronteremo in modo più pacifico invece voi andrete più stiamo facendo un discorso abbastanza generalizzato su uomini e donne per l'epoca magari è giustificato giustificato per l'epoca la buona nata ma certo ma poi stiamo parlando del 38 cioè comunque aveva senso che esistessero delle persone che ora sono d'accordo sul fatto che in questo discorso alla fine le ho detto che le donne sono emotive e basta stavo cercando di farvi far caso alle frasi che stanno dicendo tipo comunque la gen si però si mojito i pet magari è giustificato per giustificato invece voi andrete più sul stiamo facendo un discorso abbastanza generalizzato su uomini e donne per l'epoca magari è giustificato per giustificato ok per l'epoca per l'epoca la buona nata ma certo ma poi stiamo parlando del 38 cioè comunque aveva senso che esistessero delle persone se ci fate caso stanno facendo piccole citazioni a qualcosa che è stato detto prima che non avete sentito che ci sono cose del genere nel senso che non prendessero per scontato che una donna forse adatta a certi ruoli però col senno di poi col senno di oggi di 2000 cioè vedete Edo sta cercando di riportare a terra il discorso di prima perché stava prendendo il largo per dire stavamo parlando di questo e quando dice di questo si riferisce a una cosa che nel video non c'è e qui infatti è stato un mio errore ovvero la parte iniziale del discorso di Edo che era effettivamente molto lunga sul fatto che lui stesse facendo questo discorso per dire ok capisco Walt Disney perché ai tempi 19 comunque sicuramente avrebbe senso cioè dovrebbero avere sicuramente altri motivi sicuro per dire di no ad una donna ma certo ma poi bisogna non si parla più di donna ma si parla di esseri umani voglio dire oddio siamo molto più amanti cioè la finita devi guardare il lavoro che ti può produrre ma devi guardare anche l'epoca siamo nel 40 nel 40 vabbè che anche adesso è così ma nel 40 come in alcune parti del mondo ancora la donna è vista semplicemente come una giumenta e per me questa è una cosa schifosa allora Edo non ha detto tutto questo dopo l'uscita dei commenti è nel video è stato detto prima dei commenti ora spiegatemi Edo ha appena fatto un discorso e poi si contraddice da solo dicendo l'esatto opposto ovviamente quello che lui intende presuppone quello che sta dicendo ma più di donna si parla di esseri umani voglio dire oddio siamo molto più amanti cioè la finita devi guardare il lavoro che ti può produrre ma devi guardare anche l'epoca siamo nel 40 nel 40 vabbè che anche adesso è così ma nel 40 come in alcune parti del mondo ancora la donna è vista semplicemente come una giumenta e per me questa è una cosa schifosa come sapete allora capisco come dite voi in chat che sia fraintendibile ci sta mi sta bene comunque non è che il tizio a destra non parla che ho tagliato le parti in cui parlava perché si alternavano brutte battute e contributi che allungavano di molto il brodo e beh stavo comunque cercando di accorciare il video era comunque lunghino ora era fraintendibile ragazzi cioè se non lo ascolti per intero se lo ascolti magari sovra pensiero senti una serie di frasi misogene senza comprendere da dove arrivino chi siano cosa che è cioè pensa anche solo alle persone che non stanno guardando il video le persone che per esempio mettono il video intanto stanno lavando i piatti quindi si fanno i cazzi loro e ogni tanto alzano lo sguardo non si accorgono che cedo che fa così mentre dà la colpa non si accorgono del fatto che ci siano dettagli in certi punti perché sentono l'audio continuo e non si rendono conto del fatto che sto cercando di riassumere tutto un discorso più complicato e non si rendono conto anche della posizione ovvero si lui ha detto una cosa gli altri non sono d'accordo tutti gli altri gli hanno dato torto lui ha detto le donne sono emotive perché si mettono a piangere si riversi addosso a loro il cocktail mentre un uomo reagirebbe di polso che è una reazione emotiva e glielo dicono loro capite è continuamente un senza dubbio puoi essere in disaccordo con edo ma non ha ricevuto una shitstorm perché edo ha detto una cosa discutibile molto discutibile ma discutibile che comunque è una sua opinione e è tranquillissimo ma per tutto quello che ha portato tutto questo ok io subito dopo l'uscita di questo video l'ho tolto infatti ha pochissime visualizzazioni come vedete l'ho tolto immediatamente ho chiesto scusa a tutti eccetera ok sì è quello che dico Mauro Zondi non è fraintendibile fino a questo punto a meno che tu non voglia fraintenderlo cioè può capitare che qualcuno soprattutto sensibile sul tema sentendo queste cose si infuri ma com'è possibile che poi nei commenti ci siano uomini e donne tranquillissimi sulla questione com'è possibile che donne che hanno sempre combattuto per il loro diritto cioè Tia conoscete Tia non so se la seguite su Instagram per tutta l'arte che fa sta facendo l'elenco delle cose per cui ha riso cioè non vuol dire che quello che è stato detto non possa in alcun modo essere offensivo non possa in alcun modo avere problemi d'altro canto il motivo per cui ho ricevuto la shitstorm è che è finito ovviamente in un gruppo è quello che succede perché la maggior parte delle volte che tu su YouTube ricevi una shitstorm è perché qualcuno ha pubblicato il tuo video in un gruppo e la gente è arrivata a commentare di massa e qui te ne accorgi perché perché una ragazza che arrivava da quel gruppo me lo ha avvisato mi ha detto guarda stanno arrivando un sacco di commenti ne arriveranno ancora perché hanno condiviso il tuo video su questo gruppo stanno discutendo un sacco e quelli che pensano che tu sia stato offensivo eccetera e che tutto il discorso sia offensivo stanno venendo a commentare sappi che però non siamo tutti d'accordo e ok va bene va bene e ma bella ha ragione sembra che io gli stia dando ragione io mi sono pentito tantissimo di come ho tagliato questo video perché era giusto lasciare il suo discorso perché giustamente li ho invitati per tagliare i loro discorsi ma per favore d'altro canto avrei dovuto mantenerlo molto più a lungo molto più a lungo inoltre se ci fate caso e se avete visto tutto il video io non commento mai io non intervengo mai a parte quella battuta sulla cucina io dico il fatto e poi lascio che loro discutano sapendo questa cosa avrei dovuto o aggiungere scritte in sovrimpressione come faccio oggi quando per esempio devo specificare alcune informazioni oppure avrei dovuto tagliarli in modo completamente diverso dando molta priorità solo che prima che la gente commentasse io non sapevo che avrebbero frainteso in quel modo non sapevo che l'avrebbero intesa in quel modo è quello che è stato il mio grosso problema il fatto che non sono stato abbastanza intelligente da capire che avrebbero inteso tutto questo in quel modo che ci fosse questo modo di interpretare tutto quanto poi ovviamente sta benissimo che qualcuno dica edo a torto non è vero che le donne tendono ad essere più emotive ci sta ci sta benissimo sono assolutamente anzi d'accordo io posso avere degli amici ad essere in disaccordo con loro che poi apro una piccola parentesi su questa cosa non ho mai capito le persone che vanno sempre alla ricerca di qualcuno che sia d'accordo non è proprio un non sono d'accordo con voi è proprio un non vi capisco che seguono solamente pagine che gli danno ragione cioè io seguo dei giornali che hanno opinioni con cui non sono minimamente d'accordo c'è un giornale in particolare che seguo un sacco che detesto mi fa incazzare tutte le volte che pubblica qualcosa perché ogni volta pubblica delle stronzate perché lo seguo perché gli do seguito ma perché noi non dobbiamo seguire le persone che ci danno ragione noi dobbiamo seguire le opinioni di cui abbiamo bisogno per crescere io non sto con degli amici perché sono d'accordo con loro e abbiamo la stessa opinione certo abbiamo qualcosa in comune altrimenti non saremmo amici ma ho sempre amici con cui sono in totale disaccordo su certe cose ho sempre amici con cui posso discutere e essere in totale disaccordo e dire sei un coglione perché pensi questa cosa e lo trovo fondamentale è importantissimo per me che io possa essere in disaccordo non seguo solamente youtuber che mi danno ragione seguo soprattutto youtuber che mi danno torto non seguo pagine su instagram che mi danno ragione e mi dicono le cose che già so perché già le so queste cose se io penso che il razzismo sia sbagliato perché devo seguire una pagina che mi dice che il razzismo è sbagliato ne seguo un paio magari quelle che supportano di più questa cosa o che mi dicono cose che non so ma poi seguo pagine che trattano il tema da ogni punto di vista se qualcuno pensa che il razzismo sia giusto lo seguo perché altrimenti che ne so io di che cazzo pensano i razzisti devo saperlo cioè ragazzi circondatevi di persone con cui siete in disaccordo non sopporto che mi si mettono in bocca le parole dei miei amici perché il fatto che siano miei amici non ha niente a che fare col fatto che io abbia opinioni anche solo vagamente simili alle loro ok sì ma dipende da che livello una donna dovrebbe essere amica di un misogino tranquillo so che non è questo il caso non ti riferisco a quello ma allora sto per dire una cosa brutta io tecnicamente avrei amici omofobi sono gli omofobi che non vogliono essere i miei amici è lì il mio problema che sono gli omofobi che non vogliono avere a che fare con me ma ora ci sono alcuni amici neri che arrivano dall'Africa e in Africa ci sono alcune zone in cui gli omosessuali non sono minimamente accettati arrivati da queste culture ovviamente questi sono assolutamente omofobi al contempo non capiscono sufficienza di italiano perché sono arrivati da 5 anni non sono così esperti da potersi mettere a guardare uno youtuber italiano che parla di animazione che gliene frega e quindi ho questo paio di amici che sono omofobi e non sanno che io sono gay oppure vi avevo già raccontato la storia di questa ragazza con cui avevo fatto amicizia al liceo che era nazista ora ero in disaccordo con lei litigavamo ma è un essere umano prima di essere nazista non è che il nazista cammina a passo d'oca il nazista odia tutto e tutte e quindi è sempre cattivo e sempre aggressivo ha delle opinioni su cui io non sono d'accordo lei pensava che io non potesse adottare figli assolutamente categorico e se io fossi stato bruciato in un campo di concentramento secondo lei sì le sarebbe dispiaciuto perché ero io ma non le sarebbe dispiaciuto perché eravamo gay sono tutte quante cose che ovviamente mi possono far male eccetera ma io non mi allontano da una persona perché è in disaccordo con me apriamo la discussione ovvio combatterò sempre contro le persone che come fa il fascismo per esempio cercano di impedire la vera e propria libertà di espressione d'altro canto me la prendo con qualcuno solo perché è omofobo ok nazista è pesante sì ma lo uso spesso come esempio perché non era un problema con una nazista perché dovrebbe essere un problema con un misogino ci faccio amicizie sono comunque in disaccordo con loro comunque darò loro sempre di coglioni comunque se s'azzardano a fare qualcosa di sbagliato si beccano tranquillamente anche un pugno in faccia non sto scherzando per quanto io sono una persona non violenta ci sono dei momenti in cui tiro fuori violenza lo so non vi preoccupate non ci sono molte persone che possono vantarsi di essere state picchiate da me la sapete già la storia se avete già visto i miei video sulla mia esperienza scolastica la sapete la storia sono in grado di discutere con le persone non decido le mie amicizie in base a quanto le persone siano d'accordo con me perché se so che quello sparaccavolate perché ascoltarlo è giusto ascoltarlo per me ma poi quando sparaccazzate bisogna lasciarlo allora se non sei in grado di gestire la situazione è un conto ma di base se uno sparaccazzate gli dai torto cediti che fine senza problemi c'è un mio amico che è in modo abbastanza radicale e no vax e ci sono persone che hanno pensato che quindi lo fossi anch'io perché lui è il mio amico ragazzi come ci sono stato tre giorni alla games week secondo voi accetto le opinioni degli altri per quanto io sia in disaccordo se una persona dice cazzate gli dico che sta dicendo cazzate non credo che voi davvero ogni volta che una persona è in disaccordo con voi diciate ok no questo è un coglione non è che se uno se tua madre all'improvviso se ne esci dicendo una cosa brutta allora non è più tua madre ci litighi e dici no che cazzo dici hai torto ci discuti è quello che si fa ovvio ci sono persone con cui non si riesce a discutere ma il problema è che non ci riesce a discutere non è la loro opinione non è la loro opinione il problema è il problema che non ci si può discutere è un altro però avvicinatevi a persone che non sono d'accordo con voi perché una delle cose più brutte di internet è che internet ti darà sempre ragione se tu sei terrapiattista segui hashtag terrapiattista segui pagine terrapiattiste e cerchi la terra è tonda su google ti usciranno soprattutto risultati che dicono davvero la terra è tonda se invece tu sei una persona che non si è mai fatta problemi su questo tema e cerchi la terra è tonda su google ti escono le spiegazioni su come funziona la terra no in realtà è un geoide se tu sei un cristiano fondamentalista e cerchi su google dinosauri la prima cosa che ti esce è i dinosauri sono in realtà o finzione i dinosauri sono realmente esistiti oppure no scoperto questo scheletro che in realtà dimostra che i dinosauri non sono vissuti milioni di anni fa se tu cerchi su google da persona qualsiasi dinosauri su google ti uscirà la scritta oh i dinosauri sono un regno animale o come cavolo si chiama perdonatemi non sono un biologo di cui fanno parte un sacco di animali tra cui gli uccelli e sono famosi dinosauri che si sono estinti 62 milioni di anni fa insomma google ti dà sempre ragione ed è orrenda come cosa io per fare le mie ricerche per i video su youtube per l'animazione uso sia il mio account sia la navigazione in incognito perché in questo modo posso avere dell'informazione un attimino più imparziali smettete di circondarvi di roba che vi dà ragione perché già il mondo intero vi dà ragione se poi vi chiudete nella vostra cricca l'unica cosa che farete è non maturare mai non comprendere mai e credere per esempio che le persone che vi danno torto lo facciano per il motivo sbagliato i commenti che abbiamo visto fino ad ora erano tutti quanti commenti che si basavano sul non comprendere gli altri abbiamo visto prima una pagina abbiamo visto prima dei commenti che dicevano oh voi gay fate questa cosa e quest'altra cosa e quest'altra cosa la mia risposta è no noi gay non la facciamo non è vero di chi stai parlando di che stanno parlando stanno parlando del fatto che vivono in un mondo chiuso dove frequentano solamente persone omofobe che hanno idee omofobe e quindi alla fine finiscono per avere un'idea sui gay che non è l'idea dei gay che esistono è basato su quello che gli omofobi credono non circondatevi di persone che vi danno ragione non maturerete mai non crescerete mai ti dico il mio parere secondo me non ci voleva neanche un commento perché se una persona dotata di razzocigno non contestualizza la situazione trova sempre da dire sarà che io sono sempre stata in mezzo ad amici maschi e commenti così ne facevamo un casino ma poi non è che facessimo le stesse cose grazie mille secondo me è giusto escludere persone con idee immonde invece tua scelta tua libera scelta decidere quale sia il limite oltre il quale non vuoi andare l'unico consiglio che vi do è non circondatevi di persone che vi danno ragione su tutto ok no però anche tenere nascosto di essere gay amici omofobi non è nemmeno una cosa buona che ti devo dire io non ho bisogno che lui sappia che io sono gay la mia personalità non ha bisogno di darti accesso a questa informazione cioè non è che devo tenere nascosto tutto il tempo non sono persone con cui vivo tutti i giorni sono persone che incrocio ogni tanto e se capitasse che mi vedranno mai con un uomo dirò eh vabbè andata vediamo ma intanto ci faccio amicizia perché perché per esempio per esempio uno dei tanti pensieri che hanno attraversato la mia mente non ho in testa principalmente questo ma ha attraversato la mia mente anche questo pensiero se io gli dico che sono gay lui non mi conosce se io non glielo dico il giorno in cui scoprirà che sono gay dirà ah ma era una tanto brava persona e si farà un paio di domande da solo Casting Powers dice io non capisco perché la parola omofobo sia usata linguisticamente a sproposito così come xenofobo tecnicamente sarebbe aver paura di però si usa come intollerianza ma perché hai paura il problema è che un omofobo non ha paura degli omosessuali in quanto omosessuali come tutte le altre fobie in realtà dove tu non è che hai fobia per esempio del concetto di abbandono hai paura di essere abbandonato se hai la fobia dell'abbandono hai paura di essere abbandonato ma la parola è paura dell'abbandono non hai paura del vedere un abbandono in un film l'omofobia non è paura degli omosessuali del tipo oh mio dio ho paura c'è la gente che si mette il cazzo in culo hai paura delle conseguenze dell'esistenza degli omosessuali pensi che sia una minaccia se ci pensi l'intolleranza è legata molto all'aver paura che una persona sia una minaccia non come il razzismo il razzismo non è una fobia da solo perché spesso si basa sulla credenza che i neri abbiano caratteristiche che non hanno mentre la xenofobia è la paura delle minoranze pensare che queste minoranze siano pericolose capite ho anche paura di scoprire che tu lo sei Maya Falcone ci dice ma anche se no che noi siamo tutti uguali io con la mia amica sono spesso in disaccordo non mi cambia molto cioè si parla della propria opinione fine non cambio molto il mio pensiero per darle ragione esatto esatto cioè a un certo punto io mi chiedo anche ma voi non vi annoiate ad essere sempre circondati di persone che dite ah che bella quella cosa e tutti dicono ah si si bellissima cioè entro a un certo limite ok così io posso andare a disneyland e siamo tutti felici non ho quello che mi dice ah che merda disneyland però non è prioritario non vado a cercarmele le persone che sono d'accordo con me se sono d'accordo con me è più probabile che io vado d'accordo con loro ma finisce lì ma magari col tempo quella persona omofoba alliga talmente tanto con te che anche il suo pensiero potrebbe cambiare ma infatti come puoi far cambiare opinione alle persone combattendoci contro no faccia amicizia è il modo migliore per far cambiare idee alle persone tu ci fai amicizia e questa persona inizia finalmente a farsi due domande tu ci fai amicizia e scopre delle cose cioè io ho fatto amicizia con Rumi Rumi non sapeva niente dell'omofobia non sapeva che fosse così diffusa non sapeva niente di quello che gli omosessuali subiscono finché non ha avuto a che fare con me non ha avuto modo di scoprire che cosa davvero succedesse agli omosessuali finché non ha conosciuto me non ha capito che c'erano così tante persone a cui non poteva dire questa cosa non si è mai reso conto prima di quel momento che ci fossero locali in cui io non potevo entrare non se ne era mai accorto prima vivendo con me se ne è reso conto vivendo con me ha smesso di vivere su quello che la gente gli diceva e ha osservato ed è quello il punto e grazie mille per l'abbonamento a Luig Colors Asiatrix ci dice ho sempre avuto amiche che avevano le mie stesse identiche opinioni ma è finita per diventare un'amicizia noiosa e priva di discussioni da poco ho conosciuto questa ragazza e abbiamo molte opinioni diverse risultato amicizia più vera più interessante abbiamo sempre argomenti di cui parlare ecco poi beh bisognerebbe anche imparare a discutere un sacco di persone non sanno discutere la prendono sul personale e iniziano a odiarsi perché non sono d'accordo ma lì è un vostro problema un problema di gestione della rabbia e di insicurezze ragazzi miei sappiate che normalmente quando siete in disaccordo con una persona l'unica conseguenza è che non siete d'accordo Giughi che dice io con i libri mi trovo sempre a fare il bastian contrario tanti libri famosi idolatrati mi fanno schifo ma parlare con persone a cui sono piaciuti mi fa vedere l'altro lato della medaglia ecco infatti infatti Vince Leon ci racconta una storia interessantissima ovvero come la storia del musicista nero che fece amicizia con il capo del KKK che poi si è dimesso non lo sapevo non lo sapevo cos'è il KKK? è il Ku Klux Klan era questo gruppo di bianchi americani che erano convinti che i neri se dovessero estinguere è un gruppo nato a fine ottocento a metà ottocento fai e che poi è ricicciato fuori all'improvviso negli anni dieci circa va bene ho già parlato nel video sulla storia della censura e quello che è successo che tristezza si pronuncia si pronuncia cn con la c dura vinkelion ok vinkelion perdonami vinkelion il KKK non esiste più giusto esiste ancora mi spiace ragazzi esiste ancora lo so lo so non volevate ma esiste che tristezza è il mondo aspetta 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 era qui i commenti scusate vedendo solamente i simboli mi dimentico a quale corrisponde cosa di solito leggo il testo Enrico Guadagni che c'è di male? ok sì sì quelli sono stati tanti guadagni ma non vi preoccupate potete leggere qui sotto che è stato un mese molto molto particolare molto più del solito youtube ti flamma no perché dovrebbe soprattutto perché tecnicamente io sto mostrando i guadagni di un altro canale e comunque sono e questo è solamente il prognostico dei guadagni è solamente il prognostico quindi il prognostico perché ho detto prognostico perché prognostico dei guadagni non ho guadagnato davvero quella cifra ma va bene so che perdi perdi la parte se fai vedere i guadagni non mi risulta c'è qualcosa una cosa del genere so che non posso parlare troppo dei miei guadagni ma finisce lì che io sappia su twitch spiegatemi non ho ancora capito area risk ok lowest per un film di animazione estivo summer wars summer wars non puoi parlare dei tuoi guadagni di twitch ma non sono i miei guadagni di twitch aiutatemi ragazzi così posso anche migliorarmi ma che io sappia twitch non mi permette di parlare dei miei guadagni su twitch youtube sconsiglia di parlare dei miei guadagni su youtube nello specifico ma correggetemi pure perché soprattutto se salta fuori che questa cosa non quadra mi comporto di conseguenza non puoi far vedere i tuoi guadagni su twitch o ti bannano ma non funziona con youtube ok ok oh ok ok sto streaming ok 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 come on oh benissimo Enrico i told you i told you that he was coming here at 6 o'clock yes but i didn't know anything about it so nice to meet you he's a super famous youtuber as you can see so you can tell hi to a lot of people there sup what is this twitch twitch you know this is twitch this is twitch here i can see the chat and here the thing we are talking about oh that's cool what do you talk about animation cartoons movies about cartoons similar things the history behind they're asking who are you i'm just some guy describe yourself who am i i don't know it's a good question it depends on what you want to label me i guess that's who i know no oh so mature is it like anime cartoons like japanese cartoons two not only well the last the last one from this morning is toy story i i saw on telegram that you were on the live that's why i wanted to come because always i disturb you i am the king of the adventure yeah and you can see it's a tip how many subscribers do you can oh my god the numbers in english 150 000 wait what 150 000 okay i think uh where are you from american or english german germany oh no accent at all yeah when i talk to him then i have to talk the german accent you know yeah because otherwise he doesn't understand because the american one we did any we did the american accent for me too much oh and he he did oh this is my cat the partner of my life what's his name ignuza ignuza see ignuza as you told ignuza was very german ignuza it's a german sound actually it means sardinia the island yes it's called ignuza in ancient roman and i don't know who yes who did call it yes in the ancient population i don't know in roman i don't think let me follow your youtube channel what's your name you can read it so that now you can see that you are moving very you can touch in if you want let's not go there so in the time of time and we have to have dinner all together this time what's the minute you usually talk in italian no yeah yeah sorry but next week in wednesday we're going to do a live with nanny and i don't know about who eat the cook i think whoa 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 you can't cook no oh i have a creation for the day that i make a home and it's really superb ah you make it at all i brought carrots ginger lettuce paprika coconut green zucchini and maybe we can add some more vegetables if you have some wow yes ok so we'll leave you here alone oh thank you well we'll see you later wow gente che mi dice da dove arrivano sti qua ecco un argomento di cui un giorno parlerò è come funziona la vita degli estroversi ragazzi io conosco le persone mi dicono vivi in pieno terra non c'è un altro piano qui c'è solo il pieno terra di sopra non c'è niente o meglio io salgo sul tetto spesso le recensioni su telegram le faccio quasi tutte sul tetto e niente c'è solamente questo piano non c'è un altro piano dove cazzo lo sta portando sono andati dritti verso il mare va bene va bene va bene perché sul tetto perché mi piace marome ti presenta tutti quelli che incontra e viceversa sì sì ora torniamo a parlare italiano tranquilli comunque dicevate ok gatto camore ok già vi riducono lo stripendio intruse ok dovivi che ti arriva la gente in casa random Africa mi piace un sacco rispondere così scusatemi Tenerife non è roba tutta quella dell'Africa però tecnicamente se ti dico Africa tu non pensi a Tenerife pensi a tutt'altro no non sto bannando nessuno perché io non bando nessuno mai al massimo posso silenziarvi se vi siete a rompere le palle e se proprio ci provate possiamo arrivarci ma no non è che a Tenerife tutti ti arrivano in casa a caso cioè è una combinazione dell'avere un a che fare con tante persone chiacchierando scherzando ridendo giocando eccetera la combinazione di questa cosa unita al fatto che in generale è un'isola molto calorosa molto tranquilla se me lo segno con lo scappo di casa ci vengo ma vieni davvero poi sembrava un sacco carino cioè aveva una pelle liscissima e un corpo wow quindi poi vediamo di scoprire se è etero o gay satanatv santone mi ripeto se fai vedere un solo totale c'è il rischio che la live o il canale venga chiuso bellomone mi serve altro un solo totale in che senso un solo totale di youtube o un solo totale di twitch ci sono crimini a tenerife no la criminalità è abbastanza bassina ho bisogno di capire come funziona questa cosa perché ok un solo totale di twitch su twitch mi porta al canale chiuso ok allora questo già lo sapevo ma che ti piace di più il riccio o quello con la cipolla quello con la cipolla è lui quello che non conoscevo è lui che stavo commentando il riccio è rumi già lo conosciamo bene hai fatto un video dove hai parlato del tuo trasferimento me lo sono perso no non ho fatto un video nello specifico su questo grazie mille comunque come dice che non vale per youtube ora ripetendolo alla fine ho anche io la mia certezza beh fallo il video vedremo vedremo penso che lo farò quando più o meno questa mia esperienza all'estero sarà finita in modo che avrò tante cose da dire perché per ora più che descrivervi il posto e dirvi oh mio dio lì c'è il vulcano oh mio dio lì c'è la spiaggia oh mio dio là c'è la città abbandonata oh mio dio là ci sono i pappagalli cioè non è tenerife che ci sono gli allevamenti di cocciniglie che cazzo sono le cocciniglie ah non ne ho idea non ne ho davvero idea comunque se c'è questa cosa di sicuro non è vicino a me perché vicino a me non ci sono piante cioè non ci sono piante e latifoglie cioè non ci sono piante non sempreverdi cioè ci sono soprattutto palme e cactus cazzo ma se dei rumi non ti avessi proposto di vivere con lui in alternativa avresti un piano B sì sì e sto ancora cercando di realizzare il mio piano B perché mi piacerebbe tornare in Italia ma qui si sta un sacco bene e l'Italia sta degenerando cioè più io sto qui più mi rendo conto che è terribile giusto per farvi un piccolo esempio che vi può fare incazzare qui l'IVA funziona in modo diverso rispetto all'Italia e in generale le tasse funzionano in modo diverso esempio molto veloce in Italia devi pagare il 20% dei tuoi guadagni allo Stato indicativamente qui devi pagare il 7 non il 20% dell'utile dei tuoi guadagni che è una cosa che mi fa impazzire cioè in Italia se io guadagno mille euro ricevo 800 euro fine qui se io guadagno mille euro e 500 li spendo di affitto e 100 li spendo in benzina per lavoro e altri 100 che ne so sono per internet e la manutenzione del computer devo pagare il 7% della parte che mi resta e quando scopri queste cose e quando scopri queste cose che proprio ti accorgi della misura in cui l'Italia ha un problema andrà dal 1988 uno streamer non so perché ma dice che deve dare tipo un 40% di test allo Stato io vi ho detto la normalità sappiate che noi youtuber dobbiamo pagare di più cioè noi youtuber abbiamo una grandissima sfiga mi dispiace ragazzi ma noi le cose vanno davvero male perché noi fondamentalmente su youtube non abbiamo una regolamentazione per noi non abbiamo né una partita iva un codice teco apposito non abbiamo niente grazie mille a rex cinereum per l'abbonamento davvero però si ecco da quanto in live da 2 ore e 7 minuti di base il concetto comunque che in Italia gli youtuber sono completamente ignorati devono pagare tutte le tasse perché nel dubbio te le fanno pagare tutte e beh alla fine la maggior parte dei tuoi guadagni se ne va qui no Harry ma se l'acqua non è potabile come fai a farti la doccia con l'acqua non potabile non fa male solo perché non è potabile sappiatelo non è potabile vuol dire che non puoi berla ma anche l'acqua delle piscine non è potabile capite non significa che faccia male al corpo questo nello specifico è simile all'acqua termale cioè contiene tutta una serie di cose tipo lo zolfo che non dovrebbero essere presenti nell'acqua quindi ci puoi fare la doccia senza problemi semplicemente non la devo bere o se la devo bere la devo prima bollire anche se ci sconsigliano lo stesso di bollirla perché ci dicono vabbè piuttosto cucina direttamente con l'acqua potabile tra l'altro ho quasi finito l'acqua potabile anche perché io io ho un piccolo problema con questa cosa non so quale sia il problema magari qualcuno di voi lo sa e me lo sa dire ma alcune mie bottiglie sono diventate verdi faccio vedere questa è una delle mitaniche d'acqua ok dell'acqua potabile che abbiamo sono 8 litri e come vedete è bella trasparentina se ve la metto così proprio vi rendete conto di quanto è trasparente ok bene ho tutta una serie di bottiglie che sono da buttare perché sono diventate verdi credo che si veda che sono verdi cioè lo vedete che è torbida e l'ho diventata da sola non è neanche aperta è ancora chiusa questa bottiglia perché l'acqua mi diventa verde cioè sì lo so che sono batteri ma come faccio io a a rimediare questa cosa l'acqua ha disciolto parte della plastica buttale di già sono nuove sì sul fondo specialmente bravi sono contaminate avranno delle micro alghe dentro minchia ma quante ne ho beccate non mi ispira sicurezza se si è gelata è così eh sì sì ma sono sono tante cioè io ho comprato tanti litri di acqua in occasioni diverse e a un certo punto alcune di queste sono diventate verdi ok se mi dite che è meglio evitare sto bene va bene quindi è casuale non c'è un errore che io ho fatto che non devo più rifare perché ho provato di tutto cioè mi ero accorto che la mattina ricevevano un pochetto di sole le ho spostate però niente cioè una dopo l'altra sono tutte diventate verdi non le ho tenute molto al sole anzi comunque sì sono lì da più di qualche giorno comunque probabilmente il problema è a monte parte dall'azienda ottimo ho capito qual è quella che devo comprare allora comunque si si trovano alla luce perché non c'è modo di non tenerla alla luce io non ho nessun armadio chiuso quindi la luce se la beccano lo stesso e non ho tapparelle, tende o cose del genere è tutto di vetro da quel lato è tutto di vetro da quel lato c'è ancora un po' di vetro un bel po' di vetro ok tienila al fresco se riesci ho un solo frigo è minuscolo è potentissimo è potentissimo ci metto dentro bottiglie d'acqua e escono congelate anche al minimo del cioè del raffreddamento funziona troppo bene e a me sta bene perché a me piacciono le cose congelate più che altro è che mi trovo a dover comprare per esempio il latte che non devo tenere in frigo perché se prendo quello che devo tenere in frigo mi si congela però ce la caviamo ce la caviamo da quanto stai tenendo il fegge gennaio? ok felice di vedere che state discutendo della questione ah allora il tuo citare ogni volta le fonti io non cito ogni volta le fonti ci sono sempre ci sono sempre ma nei video più vecchi non lo facevo mai anche perché spesso si basavano sui miei appunti scolastici ma non lo faccio sempre no 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 io che come maestro ho spacciato smile in go la mia collega di religione e mi ha chiesto un fin sull'amicizia che non durasse tantissimo vi prego lei andate tutti a scrivere a lei lei è una persona a cui scrivere fatele complimenti andatele ad applaudire non lo so fate qualcosa cercate di farle sapere che la adorate ha bisogno di amore questa donna davvero cioè cos'è smile in go cosa mi fate leggere è un bruttissimo cartone è un cartone terribile ma che a me piace tantissimo e che piace tantissimo a tanti di noi perché ci siamo proprio cresciuti e ho neanche intervistato un uomo che ci ha lavorato ma continuerò a dire è un cartone terribile complimenti a chi gioca a campo minato mentre parlo come hai campo minato e non campo fiorito no non è della Dingo Pictures no 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 è italiano è italiano mia madre ha appena detto che Disney era un pedofilo non credo ma risponderle mi farebbe poco bene la pressione perché urlerei e direi così in modo così poco informato che mi darebbe fastidio qualcuno sa dove venga questa storia di Disney pedofilo è completamente campata per aria tra le tante accuse a Disney di cui tante assolutamente veritiere non era pedofilo non era pedofilo bravi recuperate il mio video sulla Kinder e Ferrero comunque mentre recuperate quel video che c'è il link lì in chat micio che cazzo stai facendo è tipo balzato sul tetto ha fatto un bordello dalla madonna no comunque davvero andate a recuperare questo video e vi prego rispondetele voglio vedervi rispondere adesso rifrescio e vediamo vediamo vi prego rispondetele non avete ma neanche un mi piace avete messo siete una grandissima delusione tutti quelli che possono ve ne prego andate sul video della Kinder e Ferrero cambiate il filtro per i commenti mettete commenti dal più recente questo è il più recente l'ha fatto dieci minuti fa riempiteglielo di mi piace fatele sapere che la adorate cioè questa insegnante doveva consigliare alla sua collega di religione un cartone sull'amicizia che non durasse troppo e lei ha consigliato Smile and Go Smile and Go un insegnante cioè è bellissima sta cosa la dice lei che è un insegnante tranquilli io ci credo perché parlando con gli insegnanti sono saltati fuori di quelle cose che questa non è la più strana successa ma senza dubbio è bellissima e va supportata bravi che ci becchiamo tra mi piace commentatele pure vi prego comunque che altro c'è che altro c'è oh sì oh sì se devo mettere una parola mettiamo blackface qui ci becchiamo proprio tutta la merda che il mio canale ha subito Linda no Smile and Go è un cartone animato terribile ma io lo adoro batterò a cercare certo che avevi giocatori da piccolo ai su chiunque aveva giocatori di questi cartoni vediamo vediamo ok commenti intelligenti per ora ci stiamo ecco 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 Federico Mangano era stato molto bravo a dirci il problema della recezione della blackface in Italia è che non c'è tutto il sottotesto dei minstrel show cioè in Italia non abbiamo mai visto quegli show e quindi ah tra l'altro piccolo mito che devo sfatare l'ultima rappresentazione di blackface in pubblico tranquillamente considerata divertente quindi l'ultimo pezzettino di minstrel show è stato fatto nel 75 perché parlando e mi sono reso conto che molte persone hanno capito che sì ok era tipico dell'800 ma poi è sparito no 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 sono 45 anni che non li fanno più la rappresentazione di Lulu è nipote non figlia dei minstrel show perché quello della memmi è uno stereotipo che in Italia era associato allo stereotipo già prevo di alcun contenuto semplicemente razzisto di come Tom e Jerry o simili il sul discorso in generale sulla questione è complessa perché tendenzialmente ogni stereotipo storico va a ingentilire la realtà i popolani medievali non erano felici come nei film Disney gli eroi greci erano moralmente discutibili non come in Hercules i cowboy sono ingentiliti i cavalieri medievali il nero fa un luone chiaramente offensivo ma il motivo per cui la memmi si è offensiva è più sottile l'è offensiva sia per associazione che per quanto hai detto tu che ricade nell'ingentilimento di qui sopra che bello come mi dicono queste cose ecco andiamo a recuperare un video in particolare tipo il primo degli 11 cartoni proibiti io sono sicuro che se vado a beccarmi i suoi commenti troviamo cose terribili ecco sono dalle ultime c'è uno che oh sì c'è tanta questo credo che sia questo credo che sia abbastanza innocente ma ci sono molte persone che se ne sono uscite dicendo ma io questi cartoni li ho visti in tv e qualcuno ha anche specificato ed è per questo che ve ne sto parlando quindi un paio di palle che erano censurati o proibiti che è un po' come dire ah mio zio ruba in banca quindi non è illegale è illegale è lui che lo fa lo stesso è proibito mostrare quei cartoni poi c'è gente che lo fa lo stesso ovviamente è proibito mostrarli in un contesto di intrattenimento devi mostrarli come contenuto storico però poi po 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 tutti abbastanza tranquillini ecco infatti non è vero che non è proibito la televisione svizzera l'ha trasmesso loro lo possiedono il fatto che sia proibito non significa che tutti siano rispettosi di questa regola o questo è stato fantastico raga ma angel pus non significa figa dell'angelo il male che vi fa internet il male è come se un tizio pensasse ma scusa ma le patate non sono quelle delle donne com'è che le patatine fritte le chiamano patatine perché sono le patate le patate che poi guarda caso a livello figurativo ci riferiamo alla vagina chiamandola patata sono cazzi nostri ci riferiamo alla vagina chiamandola pussy sì ma pussy significa gattina e sono finiti i commenti cattivi aspetta vediamo ecco giusti sky giusti sai io ancora non so che cosa stesse dicendo ma quello che ha detto è stato innanzitutto gli italiani che andavano in America nell'Ottocento erano tutti della compagnia e via dicendo per cui è naturale che apparissero così che è una cosa abbastanza intelligente da dire nel senso che ok sì mi stai giustificando lo stereotipo del WAP ci sta ti ricordo che in un cartone animato in black and white suppongo è stato rappresentato un operai che dava le forme alle cose con il pistolino per cui il problema non è l'omofobia ma la pedofilia adoro vedere che appena ho guardato la chat il primo commento che è comparso è eh infatti quello che mi ha appena detto questo tizio è c'era un cartone animato in bianco e nero in cui c'era un operaio che dava forma alle cose con il pistolino per cui il problema non è l'omofobia ma la pedofilia cioè io ti sto dicendo ci sono alcune rappresentazioni che sono razziste e questo mi dice no c'era un cartone in cui c'era uno che col pisello faceva le cose quindi il problema non è l'omofobia ma la pedofilia cosa c'entra l'omofobia cosa c'entra la pedofilia cosa c'entra l'operaio che fa cose con il cazzo ecco oppure ele che dice il dio nero e il paradiso mi sembrano tutte idee dei neri come se loro fossero convinti che dio sia nero e fossero molto religiosi tanto da credere di non poter andare in paradiso se commettono certi peccati e in pratica come se la Warner Bros e la Disney non fossero religiosi o comunque si prendessero in giro degli ideali dei neri dell'epoca ovviamente non è così ma non potrebbe nemmeno essere così tanto per iniziare perché non è che i neri pensano che dio sia nero dio non dovrebbe avere nessun tipo di etnia nei cartoni lo si può rappresentare in vari modi e in quel cartone ovvero Clean Pastors veniva rappresentato l'apartade in paradiso con il dio dei neri e il dio dei bianchi separato i neri non avevano intenzione di separarsi dai bianchi c'era l'apartheid in quegli anni negli Stati Uniti quindi se avevamo una divisione tra bianchi e neri era sempre un riferimento all'apartheid non si prendevano gioco delle credenze dei neri anche perché i neri erano convinti di non poter andare in paradiso secondo te ok Tutt'altro che brutti E anche molto divertenti Sapete, quello che vuole fare il genio Io ho un gusto migliore di voi Perché voi li considerate brutti Ma io li trovo divertenti Tutti li troviamo divertenti Ma io sto dicendo Sono razzisti, non ti sto dicendo che sono brutti Dio mio Io ricordo però un commento stra-particolare Quindi vado a recuperarlo per vedere Se è stato rimosso o se era sotto un altro video Perché io ho in mente Un commento nello specifico E quindi ora vorrei Vedere se il video fosse questo Oppure no Era questo Era proprio questo Lo ha cancellato Adoro questi commenti Aspetta, no Qui c'è il filtro e non ho risposto Ecco perché non l'ha cancellato Allora sarà ancora lì In ordine dal più recente Allora qui Sì che salta fuori di sicuro Eccolo qua Eccolo qua A questo avevo già risposto Quindi non andate a A commentare Ok? Ma questo commento è un ottimo esempio Di commento ignorante Mascherato da commento intelligente Vi spiego Anzi vi leggo il testo Francamente Gli stereotipi Innocenti Figli della propria epoca Li trovo oggi Innocui Sia si tratti di neri Che di italiani Che di qualsiasi altro Inoltre Ogni epoca Ha nella sua politica Contemporanea Delle fazioni Che si fronteggiano Con catechesi Figli di una determinata Mitopoiesi Tecnicizzata E questa Inevitabilmente Produce degli stereotipi Che Verosimilmente Finita quell'epoca Saranno visti diversamente Fra cento anni Per dire Se dovesse prendere piede Il peganesimo Dio ce ne scampi E liberi Per quanto mi riguarda De verrà sconveniente E deprecabile Una scena di un cartone In cui Che so Un affamato Vede un cane Trasformarsi In una bistecca succulenta Quindi Dovesse succedere Che si farà Si elimineranno pure Quei cartoni Basta con questi integralismi O con questi sensi Di colpa Per un passato Che ha fatto la sua epoca Un po' di buon senso Ci farebbe comprendere Serenamente il passato Vivere più Bragmatica Più pragmaticamente Il presente E sperare un po' di più Nel futuro Linguaggio acculturato Ha una comunicazione intelligente Io nemmeno so Che cosa significhi Mito poiesi Seriamente Non so nemmeno Che cosa potrebbe significare Quindi adesso vado a cercare Così quantomeno Vi posso spiegare Tutto il resto del commento Mito poiesi L'arto La tendenza A inventare favole Formare miti Ok Ok Com'è possibile Che io non lo sapessi È talmente legato a me Che Ci sta Perfetto Ha una ritorica Fusariana Bravi Allora Ci sono molti termini Che fanno pensare Che lui sappia Di che cosa sta parlando Ogni epoca La sua politica contemporanea Dalle fazioni Che si fronteggiano Con catechesi Figlie di una determinata Mio poiesi Tecnicizzata Dio mio Non riesco neanche a dirlo La rotazione della lingua È terribile in questa frase E questa inevitabilmente Produce degli stereotipi Che verosimilmente Finita quell'epoca Saranno visti diversamente Allora Iniziamo dal fatto che Consiglio nella vita Gli avverbi di modo Diversamente Inevitabilmente Verosimilmente Sono considerati ignoranti Non vengono utilizzati nei libri Se andate a prendervi Un libro scritto bene Per quanto sia Un libro Magari Un attimino più serio Un attimino più divertente Se è scritto bene Se è un bestseller È molto improbabile Che troverete avverbi di modo Perché sono Ecco Ecco Li prendono in giro Proprio nel titolo Di qualunque mente Per un motivo Sono troppo lunghi Rallentano il ritmo Delle frasi E la maggior parte Delle volte Non sono necessari Infatti Li si evita Proprio per evitare Questa cosa La ripetitività Inevitabilmente Verosimilmente Saranno viste diversamente È ripetitivissimo Sembra una poesia E poi E questa Produce Per forza Oppure Può dire anche Inevitabilmente Produce degli storici Perché Verosimilmente In modo verosimile È probabile Che Di sicuro Finita Quell'epoca Perché ha scelto Proprio quel Mente Perché più Una parola A sillabe Più la percepiamo Come intelligente Neanche nelle poesie No No Non vanno bene Anzi Nelle poesie Anche peggio A meno che tu Non voglia fare una poesia Il cui titolo In cui scopo È Essere lenta Se io ti devo parlare Di una poesia Basata sul Quanto si muove Lentamente Un'anziana signora Posso dirti che Lentamente Pacificamente Prese Senza fretta Quindi Calmamente E lì ti rendi conto Che è lento Ma in tutti gli altri casi Se non vuoi ottenere Questa cosa Io che dico Ovviamente Chiaramente Ogni tre parole Ecco infatti Dove vanno bene In modo misurato Quando vuoi rallentare Il ritmo O in modo saltuario Detto questo Questa cosa È una piccola correzione Che faccio Di corsi di scrittura creativa Non vi preoccupate Che cosa ha detto Ogni epoca Ha nella sua politica Di quel momento Di quell'epoca Delle squadre Persone che si dividono In fazioni Che si scontrano Con ideali Con un'etica Con un'idea Di giusto e sbagliato Con tutta una serie Di insegnamenti Che sono figlie Di una specifica Serie di miti Miti che fanno Così parte Della nostra vita Della vita Di tutti i giorni Del nostro interagire Con gli altri Che fanno così tanto parte Della nostra cultura Che per questo motivo Non possono che Creare degli stereotipi Che poi Una volta finita Quell'epoca Una volta finito Tutto quello che ha creato Quegli stereotipi Verranno visti In modo distaccato In modo diverso Cioè in poche parole Ha detto Sono figli Della sua epoca Però ci ha impiegato Un sacco di parole Il che ci fa sembrare Tutto questo Molto intelligente Ma perché quello Che ha detto allora Non dovrebbe essere intelligente? Semplice Molto molto semplice In realtà Perché tutto quello Che lui sta dicendo È legato al fatto Che presuppone Che io oggi Nel 2022 Stia andando A commentare Dei cartoni animati Che i tempi Erano considerati Normali Che i tempi Una volta Erano commenti Considerati tranquillissimi Che quando Arrivò Quell'epoca Erano innocenti Ma poi arrivo io Con la mia cultura Completamente diversa Nella mia epoca A dire No erano razzisti Quando in realtà Quando in realtà Io lo dico nel video Quei cartoni Sono stati reputati Razzisti Dal momento in cui Sono usciti Un esempio Molto semplice È Scrub me mama With a boogie beat Che è Un cartone Che non tratto In questo video Ma tratto Nella parte 2 Di quel video L'avevo detto All'interno Del mio video Ovvero Scrub me mama With a boogie beat È un cartone Del 1941 Ed è stato Reputato Razzista Dall'associazione Nere americana Nel 1941 Appena è uscito È stato reputato Razzista Nel momento in cui è uscito Non era normale Per quei tempi E Guarda caso È stato poi Censurato Nel 49 Nel 1949 Ok? Così come I video I cartoni animati Di cui parlo In questo video Il commento Che lui fa È molto intelligente Quello che dice È vero Che noi Al giorno d'oggi Non possiamo Commentare Cose di quei tempi Giudicandoli In modo diverso Che se Il veganesimo Prendesse davvero Piede Tra cent'anni Il fatto che Al giorno d'oggi Mettiamo i cartoni animati Che mangiano carne Andrebbe censurato Tutta una serie di cose Che sono vere E sono intelligenti Ma non è stato in grado Di capire il video E non ha capito Che io sto elencando 11 cartoni Che sono stati proibiti Dalla AAP Nel 1968 E che erano già Sconsigliati E considerati razzisti Da vent'anni prima Qui mi chiedono Ma il razzismo è l'omofobo? Perché sono discorsi politici? Ah il razzismo è l'omofobia Pardon Perché sono discorsi politici? Non lo dovrebbero essere Non lo dovrebbero essere a patto Ma lo sono E lo sono Perché ci sono fazioni politiche Che combattono Contro L'uguaglianza Fondamentalmente All'inizio Non erano fazioni politiche Non era una questione politica Sono diventate Una questione politica Più o meno Dalla nascita del fascismo E del nazismo Da quando Hitler In particolare E resisteva già dapprima A questa cosa Ok? Ma proprio L'anello di rottura Il punto di rottura Che ha creato questo passaggio È stato quello che è successo Con la seconda guerra mondiale Dove L'intera politica Totalitarista di Hitler Era legata Anche Che poi totalitarista Sarebbe da discutere come termine Anche Al fatto di cambiare La cultura Degli esseri umani E far pensare Ai tedeschi Di essere Un popolo superiore Anche a livello etico La politica Ha cercato Di proposito Non per caso Perché figli della sua epoca Ma di proposito In modo forzato Di cambiare L'etica Del suo popolo E beh È quello che è successo Da quel momento in poi Tra gli ideali Della destra Abbiamo iniziato Ad avere Anche Per esempio Il preservare La razza Dell'estrema Destra Ovviamente Non pensate che la gente Di destra Sia razzista Ma appunto Questo è diventato In quel momento Un'idea di estrema destra Sono diventati politici Quindi sono politici Per fazioni Già Purtroppo sì DSM5 Ci dice Disturbo Dice Il manuale dei disturbi È una coincidenza Che ti chiami esattamente Come il manuale Oppure Vabbè Comunque Ok Non è un caso Perfetto Tutto ciò che attuare Diventa politica Nel momento in cui La politica fa del populismo La propria Rason d'etra Esattamente Che poi Che vuol dire Razza Apriamo questo piccolo argomento Razza È una parola Che serve ad indicare Quel momento in cui Quella pratica In cui ti prendi Un gruppo di Mucche E ti dice Ok Queste mucche Per qualche motivo Hanno tutte quante Una grande produzione Di latte E sono tutte Molto grasse Al contrario di queste Altre mucche Quindi facciamo Riprodurre tra di loro Queste mucche Con questo toro Eccetera E facciamo in modo Che il loro DNA Si è mantenuto Così avremo Dei figli Che molto probabilmente Saranno quasi tutti Tendenti All'essere grassi E a produrre Molto latte Poi Quando questi faranno Dei figli Che non avranno Queste caratteristiche Non li facciamo Figliare Mentre i figli Che hanno ancora Queste caratteristiche Li facciamo figliare A un certo punto Ottieni una generazione Di mucche Che tutte quante Hanno le stesse caratteristiche Ovvero Il fatto di avere Una grande produzione Di latte E tanto grasso Una selezione artificiale La selezione artificiale Che è la razza Quindi Una razza È fondamentalmente Quando tu Accoppi Tra di loro Dei singoli esemplari Con certe caratteristiche In modo forzato E quindi riesce Ad ottenere Quella che alla fine Diventa una razza Ovvero un insieme Di animali Che hanno più o meno Le stesse caratteristiche No Razza non sono esseri Con specifiche caratteristiche Razza Fa tutto quello Che ho spiegato finora Razza È quando tu Fai accoppiare Tra di loro Per esempio Le stesse vacche Per fare in modo Che siano tutte grasse Qui mi dico Una spe Razza Non è solo una cosa Che si crea artificialmente E invece sì E invece sì La razza Si crea Solo artificialmente Non si crea Da sola in natura In natura Le razze Non esistono Tant'è vero Che parliamo Per esempio Di razze di cani Razze di mucche Razze di maiali E così via Per un motivo Non so ancora Come cazzo ti chiami Dice E la razza umana Ma per quello Si dice La razza umana Si dice È una sola razza Perché non puoi creare Delle razze Per creare una razza umana Dovresti iniziare A costringere Degli esseri umani Ad accoppiarsi Tra di loro Infatti Tecnicamente Hitler voleva Creare Una razza Non esisteva già Il termine veniva usato Anche in ambito Scientifico e tempi Ora sostituito Con gruppo etnico Infatti Infatti Naturalmente Ci sono le specie Di animali Ci sono anche Le specie endemiche Ci sono un sacco Di cose Che gli animali Possono avere Ma non razze Da soli Non hanno razze Tant'è vero Che tecnicamente La maggior parte Dei gatti Non ha una razza Scusate Ma ogni volta Che sento la parola Razza Mi viene in mente Quel pesce piatto Con la coda puntita Che ha ucciso Quel famoso animalista Ecco Quale tecnicamente Sarebbe una razza Giusto? Non dovrebbe essere Quella z dura Ma con la z dolce Non con la z aspra Ma con la z muta Vabbè abbiamo capito Si dice così Perché Luca Cavalli Sforza Ha dimostrato Che c'è una sola razza umana Perfetto Ora Con questo discorso Penso di concludere il video Vi ricordo Che per supportarmi In generale Il consiglio più grande Che vi posso dare È commentare i miei video Davvero Cercate di commentare i miei video Perché mi fa bene E mi aiuta Vi saluto Fate i bravi E io faccio un raid A qualcuno Allora Facciamo il raid C'è qualcuno Qui che deve riscattare Il raid Perché l'ultima volta L'ha pagato Ma poi non l'abbiamo fatto Ok grazie per ADSM Che mi conferma Che è razza Tonics mi dice Guarda Per teoria della rivoluzione Esistono le razze in natura Se una razza Si differenzia molto Diventa una nuova specie Touche 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 È vero Tecnicamente Esistono le razze in natura Per due o tre generazioni La level ricarico su YouTube Sul secondo canale Con calma Vedremo Henry Quali tipi di stereotipi Non sono dannosi Ci si può scherzare Sopra tranquillamente Tutti Tutti È molto facile in realtà Puoi scherzare Su tutti gli stereotipi Tranne Quelli che avevo già elencato Quindi andiamo con Radio Brea Radio Brea E faccio il raid a loro Fate i bravi Ciao ciao Comportatevi bene E andate tutti a invadere Questo canale Che ha solo 4 spettatori Dai che lo facciamo spaventare Radio Brea Non ce l'hai Ciao ciao ragazzi Fate i bravi